erai il più bravo di uscire al primo velo devi stare zitto che non riesci neanche a parlare guarda stavo cercando le parole per non farti bannare quindi grazie a dio che ho detto genitale il primo pelo pubico esatto a me se venivi al games week ti va mamma mia mi contagiavi il covid che già avevo ti facevo diventare un uomo ti facevo raccogliere saponette dalla mattina ahahahahah tu invece di ridere porco 2 ma vuoi andare sei un gioco di merda fatto col buco di culo del porco del signore nooo mi dissocio si invece Koga da quando hai giocato con freccia non stai rispettando più le regole di facebook non ti riconosco più da quando hai giocato con freccia Koga cosa è successo prima volta fa freccia l'ho dovuto violare voi sullo schermo arma le conta le le kill e le morti giuste raga si 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 ve lo siete fatto un calcolino eh dovrei avere tipo 2,70 dovrei avere tipo 3,40 io 2,5 ma bravo io non c'ho più le mani per dio io c'ho 4 dai 4,50 allora l'ho fatto al minimo con le morti massime contando che se mi da tipo 6,100 ho fatto come si può essere 6,199 ma chi? eh per no no è per dirti si c'ho dato tipo da 4,50 a salire ah bravo io non ho giocato per 5 giorni mi era dimenticato come si sparava e Koga può confermare ah quanto è il ping raga che sto fumando? è basso è basso l'ho trovata non l'ho trovata l'ho trovata l'ho trovata ding dong ding 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 jansit tu chiami il pescetto jansit ma che cazzo che cazzo c'è un trombone c'ha ai dio fa il te è divino dopo smuttami sul gioco che è su da qua divino ma quindi dobbiamo fare i koga contro te e nico? no è il contrario non ci ha capito un cazzo io e te contro è un po' stunnato il ragazzo no perchè prima ha detto io e nico ho fatto divine no perchè loro hanno il torneo capito? ah ok ok torneo gratis tra l'altro ah odio buono ma che ti smuto a fare poi? scusa stiamo giocando contro poi mutatemi voi di vado ma esci tu ma che vuoi? però famo così ehm ehm se fuori sa eh no no morite basta hm 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 non te resto mai è probabile che succede comunque Koga c'è una sensibilità troppo alta c'è un vantaggio assurdo per quelli che giocano in America eh lo so ne prendiamo 200 devo buttare ma scusa fanno uscire cambiamo disco, cambiamo stanza vabbè cretina eh vabbè devo mutare Werto però e poi fra ieri ho aperto Discord c'avevo la cam che si poteva vedere tutto si poteva vedere i messaggi tra me e te visto le live che me l'incaso e per questo ho dovuto eliminare la live si sta avvicinando alla zona sicura cazzo ma perdita da anti al 99% va bene no? andiamo bene chiamata Koga Koga che si è schiantato in acqua va bene eh lo muore mi sta laggando tantissimo e dai eh vabbè vabbè meno male che non sei morto eh manchia sono caduto in acqua mi ho perso quasi tutta la vita ho messo Wano un po' di merda ho questa connessione di merda sta la gamba pure su di non so non so vabbè prima di attarmi no please ah non decido io cosa è per me bombarda sono lontanissimo ho preso un giubattino per te fra non è sceso nessuno troppo lontano ah è vero che l'aereo ma io lo trovo una scalda non hai ancora il giubattino tu? no lo faccio io e poi andiamo a pushare qua a fianco c'è un team comunque qui sta arrivando dalle montagne sta andando entro l'era ok perfetto e entro la finestra idrolatric ah ah oppa in realtà però li vedo andare verso osservatorio sulla montagna dell'osservatorio era un mio pensiero e infatti sono lì eh boh credo si fossero spaventati vedendomi invece obiettivo principale raggiunto bersagli eliminati senti? si roccaforti localizzato i bersagli sono segnati sulla mappa tastica non so cosa sia successo ah ieri sera che fa così martina ha fatto qualcosa sicuro porco uabi nemico in zona uabi nemico uabi nemico bel col bombarda vai sto eliminando io giro ne uno qui dentro da me arrivo là di dietro fuori è stato uno sotto non si vede sono ritornato passi a sinistra non c'è ancora le mani davanti a me non sapevo come cazzo chiamartela hai notato? che non sai fare le collo però intanto ti ho salvato le palle fatti le armi va UAB già ce l'ho io lo tiriamo solo in caso di emergenza no l'hanno tirato loro fatti le armi e pusciamo questi vai aspetta prendiamo anche seghetto seghetto prendiamo questi qua e poi gli altri sono qua che va re sto solo lì no due alti al secondo piano questo è stato l'altro è stato è stato l'altro è stato l'altro è stato l'altro gli altri erano in questa zona qua è stato il movimento direzione cosa aveva di buono? cazzo ho trovato un attacco con borsaio eh no c'è già l'altro c'è un altro vabbio non vorrei tirarlo torri a sinistra ma c'è un anno l'ho distrutto te lo tiro fra l'uomo cazzo c'è uno qua sotto io sono qui nella casa attacco aereo alleato atto la bolla della casa poi c'ho tutti quelli fuori safe no ma hanno fatto c'è uno qua c'è uno qui è un full team è un full team ma lo non riesco c'è uno qui 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 mi sono riuscito a prendere solo una gilla meglio di nulla assist mi fermo un attimo guarda un attimo le kill c'è uno qui noi abbiamo 10 kill all'ora 5 siamo 8 di 5 prova a riprendermi il mio loot c'è uno qui c'è uno qui c'è uno qui c'è uno qui se già è caduto no è già caduto però sono lontani vengo qui vicino a te siamo vicini vicini shoppati le armi vieni ti ropa i soldi tanto mio dove cazzo fai ma lo scianda lontano no sta qua vicino vado qui io c'ho ancora il culo quindi sì sì ho una sacchetta ah quello lì dici eh sì non c'è nessuno c'è uno dove sta andando? c'è un giro più lungo qua viene microattivo comunque andando a prendere pure quelle muni lì se ce la faccio al volo hanno restato hanno restato hanno restato alla mia destra visto ho messo one visto vai tara ho la faccia ho la faccia non lo so senti sì 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 c'era un altro però sotto c'è l'uscita del tunnel non è stato dietro a domani dove hai preso le armi non c'è un'altra cosa 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 è sceso subito quello fa una maschera non c'è un'altra cosa non c'è un'altra cosa non c'è il più che ho fatto non c'è un'altra cosa non c'è un'altra cosa Ok, non pingarci, stanno sotto da loro Siamo app, comunque, noi Due più tre, cinque Dunque, stavo rossando Oggi, ma più gioco, più mi si fanno le mani fredde È normale sta cosa? No, direi proprio di là È mezz'ora per farti passare il freddo Eh, pure perché se no sono un tronco E a parte un paio di cazzatine Non è nient'altro È negativo Non è lì, non dovevi andare di nuovo, Ben Eh, sai cosa? C'avevo l'altezza, la stavo sfruttando E poi sono morto come un coglione Perché volevo prenderli tutti, tutti subito Invece che ricallengiare Spari a sinistra? Sì, 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 sì Li sento, li sento Stanno alle gas Andiamo? Agli palazzoni, sì Manca il palazzone Prendiamo quel palazzone lì Eh, ma mi sento spari anche da quella parte lì Dove lì, è preciso Wow, vada Sì, sì, sì UAB nemico in zona UAB nemico Arriva l'attacco con mortaio alleato Bombardamento alleato in arrivo Prendo il palazzo Uh, spari Caliber dentro Caliber dentro Cali sul top da dentro Sento le mine a grappola Eh, non c'ho al dentro Questo Anche io le sento Arrivano Io sto salendo Oh mi hanno fatto la guerra Un altro team Un altro team Sto facendo la gente E' troppo senza E' un po' d'accordo Prova a farle colli Non vedo più nessuno Ti aspetta un attimo E' per essa se riesci No, mi ha chiuso fuori Ho visto di peggio Arrivano Alla mia sinistra Non c'è te due Tutte due nello stesso bagno Non stiamo bene Vai 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 Il mio hipfire Comunque guarda Timi kill in fire Prendi questo Eh, c'ho il coso come si chiama Ma spio, vediamo se allora sono morti entrambi Quante che l'abbiamo noi Prendete quello che vi serve Tante Tante sì 5 più 3 Siamo up di 8 kill Ti guadagna un rientro Un tuo compagno è finito nel gulag Eh sì, non c'hanno tutti da scala Per tornare in campo No, 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 no Eh, io li avevo presi Non me ne raffa Qualcosina in più Mi farebbe sempre piacere Aspetta Eh, li avevo presi Sì Tra due caricatori Andassimo il top del palazzo Se riusciamo a sto giro Il tuo compagno sarà il capo Lo rivedrà in campo È lui Allora, abbiamo fatto il gulag insieme Allora, se qualcuno è arrivato C'è un load out in safe Eh, non c'ho Raggiungo questa zona Non è possibile, grazie per il like Ma te dovrebbero uscire Ah, sì C'è questo E questo Andiamo in safe Aspetta Vando a vedere Comunque fra stanno smoccando Alla mia destra Alla mia destra Eh, sì, sì Infatti per quello Stanno fai tanto Arrivo Eh, cazzo Uno era fuori Vi sparano dal palazzone Non ce l'ho fronto Mi cato Eh, sotto Sì Arrivo Mi hanno bloccato Con la granata Uno l'ho noccato Mi hanno bloccato Sì 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 Una morte Abbiamo vinto Un attimo il gulag L'ho noccato Nooo Merda Vabbè, se mi farà il gulag Comunque dovremmo aver vinto Ah, ho sbagliato A me sparare A me sparare Due, due, due Ma, dodici Per nove Bella sta pistola Nel giro Sì, guardi Vorrei giocerci anche Tante armi Mettiamo la tasca Io me la gioco Comunque Eh, vai, vai C'è, c'è Ma, venti La dodici No, ma, già Dicianno La dodici che avevamo vinto Minchia Laserazzo Abbiamo vinto però 20 kill Oh, 20 kill Non sono male Dai 20 e 12 Sai che non sono male 20 kill Sì 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 La prima arma Sai qual è che devi usare Nico Qual è il ripper Dove sta il ripper Aspetta Eh Bruen No F-Tac F-Tac Ripper 56 Aspetta Come sotto canna Sotto canna Sì Che è la seconda Mi ha detto Eh Eh Damme la quarta Per esempio Ah Come si chiama F-Tac F-Tac Ripper Ecco 56 Poi Ah pure quelle Pure le munizioni Messo Sì 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 A tutti A posto Va bene È l'ottica Lei Classico Grande Classico E la calibrazione Bella Renzi Grazie per il like Vabbè Vabbè Quella me la vedo Me la vedo Mu io Dai Dimmi È portata Ok Va bene Vai Vai Devi mettere quello che aumenta velocità e precisione in sostanza È portata Quello che è velocità mirino Un cazzo È A me è un secondo A me è un secondo Papà Ormai è meglio Tutto su Boh Io ieri mi sono messo a prova tutte le armi che ci sono Ecco il cazzo che vi do le bita Il compagno di team che sono Eh Verda Sì sì Nico comunque l'arma principale che devi usare sono le mani Ok E da lontano Giusto Sì sì Vedi più lontano Che vuoi Che vuoi Comunque sei una cretina di Vine Perché Oh dai dai Cambiate Cambiate che cosa Oh Innanzitutto noi siamo qui due su Discord quindi devi cambiare tu Prima cosa Beh Secondo se vuoi quello che abbiamo noi devi dire per favore Peccatemi il buco del cu Anche no Per favore Anzi soprattutto perché hai perso la partita dovresti cambiare Dopo quel game che avete fatto la 5 kill e 3 kill No non ho fatto 6 e 6 Perché stai zitto tu Ma tanto se ne è già uscito Ti ho offeso subito Vamonos Alla fine se l'è andato di merda E abbiamo vinto comunque il game Eh vabbè Il mio FPS comunque Porco 2 che merda Ma è perché proprio era il destino che ci diceva Comunque lo sai è vero che non ce la facciamo a fare il game in 13 minuti E non dovevamo startare il game Ah cazzo è vero Eh glielo diciamo un attimo Eh sì Ci facciamo la coppia e languittiamo poi Eh raga raga Guardo Eh noi non ce la facciamo Mancano 10 minuti di inizio Nico mancano 10 minuti Però non ce la facciamo No ce ne siamo accorti I due li guittatela Vai vai guittiamo Poi la guittiamo La guittiamo poi raga C'è gente comunque al ballon Ma dai Arrivo proprio da lì Dai la caccia al nemico Mi deve finire Che babba C'è zio questo qua sta scappando che io c'ho la pistolina per sparare Ora il tuo video è il termine Gulag Se sopravvive tornerà in azione Vai finire che babba Sarà per la prossima Che babba Devo uccidere a kebab Devo uccidere a kebab Che babba Cazzo è l'unico che è giocato attaccato a me perchè non sa giocare da solo Rumorici Mamma mia Ed è glitchato al camion questo Ed è glitchato sul camion Questo è il Gulag Qui si combatte per tornare in azione Ah sei morto Eh si sto al Gulag Mi hanno fottuto tutto perchè non sanno giocare da soli Mi giocano attaccato Che ci vuoi fa? Quattro le armi Anche quella è una caratteristica Dico è insato a giocare da soli Ci provo Goga Sbarcete sangue o sarà la mia guardia Sbarcete sangue Sbarcete sangue Sbarcete sangue Ci sono le armi eh Il tuo compagno è una caratteristica E' l'orario Nooo Prenderti una sacca Ah si La terra La terra La terra qua Si sta autoressando Si sta autoressando Arrivo L'autoressato Bravo L'alto Prendiamo L'alto Prendiamo Prendiamo Sbarcete Non troppa? Vieni, attanto ce l'hanno No, però per stillarla posso Non sono neanche io che ho imbottato e ho tirato qui, Koga Eh, ho visto Il tuo team è nella zona sicura Quanti kg siamo? Noi sei, loro ho sette Sette, ho sette, ho sette Ah, solo perché mi si sono stillati la kill Ah, scrappolo Belli quelli sotto Andiamo a farceli Sì Guarda pieno di armi Di soldi, cazzo di farlo Oh, intanto muori No, streamer tecno Partiamo dalle basi Ma io non so dove stanno questi Ah, loro si Ora mi prendono anche la kill Buona Ce ne abbiamo fatte 8 a 9 Oh mio Dio Ma che cazzo Ah, le piacciono in più C'ho la tazza Piazza Anche loro stanno già andando attaccati a noi Che sanno che senza di noi non trovano i cristiani Che non sanno già da soli Che non sanno già da soli Che non sanno già da soli Eh, non so se non ho bisogno di già far fuori Ah, ti scappi tu delle muni Cazzo No, lo sapevo Come lo shop di DoraDentric No Bella, Andrea, grazie per il like Grazie per il like, Andrea Che dici? Aguri anche a te, Andrea A te e famiglia A te e famiglia Vabbè, va Mi mira Dove stai? Mi deve mirare su Joyce Che di merda Monti problemi Prima di un torneo Troppi Eh no, questo problema già ce l'ho Vieni da me e vieni che c'è una toress Vieni da me e vieni che c'è una toressa e si racconti di oggi ora i soldi 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 mi faccio un'armetta un'altra parte non me la faccio solo io non fare il cazzo 55 sono il poca dai che puciamo subito la verona e poi ieri dammeli che me ne aveva farò un'altra me ne facevi due a farmi troppa i soldi non ho un genio oh c'è la corona sì fatto bravo fortissima guarda dire che ha giurata parecchia prendi il grappolo eh ciò quanti chi la siamo noi 9 e loro 11 10 per farlo noi dobbiamo prequittare il game 3 minuti eh sì spazio spazio qui qui lo li che c'è gente stanno parlando spazio 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 l'ho vista l'ho vista in realtà non l'avevo vista ho flashato però colpito 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 la casetta non mi hanno pushato ci ha togliere la granata non ho visto che c'è altra gente non lo so ne avevo vista un'altra in fondo mi pare de no se 58 dai fra dobbiamo non quittare si uno l'ho messo 1 facciamoci vesti e poi quittiamo erano qua sotto è iniziato te no l'ha tirata lui da sotto lo stavo killando da sotto eccolo è morto uno morto oh stun alla mia sinistra ho fatto il giro gg dalla montagna minchia poi l'avevo tirata perfetta la termite fra hai visto perfetto sul tuo ping che mira di merda quanti che l'abbiamo 13 a 12 dai ma io l'abbiamo ma io l'abbiamo io ho laura di essere morto come fa a sapere se ce li ho sopra mi stanno disfugendo ha detto se li sta facendo il tivank e palle non ho capito guarda ha detto se li sta facendo il tivank che palle però evasione oddio ma respawni guarda respawni comunque guarda respawni m e' comunque c'è la luce già il bravo c'è già il bravo un testo che cristo se traduzzi visualizza partita c'è 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 il cuore di il in 38000 parto c'è 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 Qua stanno ancora mirando Comunque il bello Uno l'ha noccato L'ho fatto restare e mi sono preso la ghila N'è uno sotto Il lato con la termite Sto rompendo il cazzo E' uno mandato la richiesta di amicizia Ora Sì Siamo 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 16-17 Siamo sotto Siamo sotto Sì Siamo sotto Guardando il fatto che sto guardando solo qui Non sto praticamente giocando Mi sta no? Boh mamma è Al punto in grande Accesa qui Sono a Monk Ehi Ehi Se ti invitano accetta Sì Non posso aprire il cmg sul pc capito? Perché ho la gamma sul monitor e si vede tutto il cristo che apre Sì Che cazzo devo fanno? Voglio una gamma Ma no mamma Parla così Ho fatto fare assist guard Stanno tutto il tempo attaccati loro Sì Ti ho detto Non sanno giocare da soli Sei un problema di multiplayer sai? Perché? Perché? Che non sanno giocare da soli Madonna Ehm Oh frati hanno detto Non posso invitarti perché sei in game Ehm Vuoi uscire dalla partita e mi puoi invitare Quanto sono inglese? Oh Ma che è? Non posso invitarti perché sei in gioco Ehm Allora Dammi Si chiama già questo L'host di chi è? Il nostro Sì Invitato Ah fai te host? No Ehm Puoi farlo pure tu Non cambia nulla Non c'ho la VPN e non nulla La VPN ha un vantaggio solo loro Io incontro delle lobby di merda fra Vai 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 No va bene Perché stare amicizia inviata Questo Uno gliela invia pure anche l'altro Però è fatto bene il CMG eh Sì Abbastanza Hello 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 You can start No Yeah yeah No Good luck my brother Good luck Minchia il tuo fratello Tuo fratello Goga E' tuo fratello Goga E' mio fratello si Ma è broda 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 Aspetta che rimetto la cam Che punta al monitor Così non mi faccio Aspetta pure io la devo rimettere Ehm Stream Stream Non la posso Non la faccio vedere la mia faccia di minchia Non la faccio vedere Posso pure rimettere Non la faccio vedere la mia faccia di minchia Ehm Vado su CMG la devo troppo Ehm Vado su CMG la devo troppo Ehm Sai che è best of one eh Quindi dai Abbastanza una merda Best of one Ti fa male un game Ne hai buttato tutto Io ho ancora le mani fredde Però Vabbè Let's go man Bello focus Preparate l'attrezzatura Manca poco Ehm Di Double Trappam Gavate Tìn Ha Ti Ti Vedo Div À Und C Cu L' basta scherzare inizia la vera battaglia ci sei Koga? Koga? Kogas? Belli, 29 fps ci sono, ci sono. Quanto pare è qua sotto, no no, noi andiamo sempre lì, osservatorio, pallone, pallone? Sì, ormai l'abbiamo masterato quel punto Dove stanno scendendo loro pure c'è un po' di gente, l'ho visto ieri ingorgere quel punto, bello scendendo uno, devo farlo, chiudi, chiudi nell'aria no, scarto, scarto vado giù c'è comunque vedi che lobby di merda cobiaccato, non c'è la gnocca sta lontano mi sento parlare abbiamo la gnocca contro comunque attenzione, c'è una squadra nemica sulle tue tracce lascialo, avvicini dittalo Koga? Koga? eh, mi si è fermato il gioco eh che cazzo eh uno mi ha pushato che dio cristo però eh lo so, posso farci un po' anche con un bocca al culo mi capita no incredibile che cazzo è andato? BOOM bongo escuro scompatto e che rottura di cazzo però che ho dovuto fare il gulagg allo start non so dove sia andato il tuo problemi di lagging in torneo eh siamo pari comunque Non sto bestemmiando perchè sei mortissimo perchè sei in live Ho riflesso del verde Questo è il verde Algo è successo del main Sto arrivando anch'io Qualcuno è passato al main Tutto cassa qua Non è merda Non è di buono Rpk Non ce la pigliamo Un abbandonato la partita In caso di crash Che succede? C'è gente a muore Stanno parlando Parla no? Si E' sul tetto mi sa No non sono io Rpk 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 Allora, quanti gliel'abbiamo? Eh, 4, 1, 1 E così Ma Bisogna leggere al volore No, me lo ricordo E così, si restarta delle kill di quando quello è crashato Sì? L'avevo visto in live, sì Eh, a me è uscito che l'ha abbandonato comunque Se è crashato non lo so Ma perché dovrebbe questa? Quella è la domanda Eh Mi ha inviato una clip Mi ha inviato una clip Sì, l'ha crashato Se lo si restarta dalle kill di quando lui è crashato Quanti kill avevamo quando lui è crashato? Se non sbaglio 2 a 2 Controlla un attimo Sì, era 2 a 2 Sono andato su game battle, penso Era 2 pari Sì, ma intanto start Quanto mi riguarda il VOD Boh, scrivielo comunque Siamo up di 3 kill Capito? Sì Eh, di nuovo Siamo sopra Noi abbiamo No, abbiamo 5 kill Loro 2 Quindi noi eravamo sopra di 3 Scrivielo Se loro poi intervengono e dicono No, no, bisogna restartare da quelle kill di quando lui è crashato Poi si vede Intanto tu scrivi che siamo qua sopra di 5 kill Abbiamo tre uccisioni in più di te Ma se glielo scrivi in italiano come capisce? No, lo traduci in automatico Ah Perché Fai a leggerlo We're up 4 kill Eh Then Then Eh, me lo traduce sempre Vedi che mi Parco Ma devi iniziare quando il mio compagno di squadra è caduto Esatto But you need to start Eh, quello che avevo detto io Not when we told you Infatti lo sapevo Che era così Lo ricordavo Eh, adesso mi riguardo il VOD Il problema c'è What is the problem? There is a big difference Adesso riguardiamo il VOD Non ce ne sono problemi Guardati un attimo il VOD comunque però Sì, sì Allora Evidenziatore Che mi sono fatto anche le kill al Gulag Eh Che erano due kill E tu ne avevi zero Vedi un attimo quanti eravamo Quando lui è crashato Ah, eravamo ancora 4 Ancora 4 Ancora 4 Ah, qua è crashato Quindi quando kill avevamo lì? Due Aspetta Fino avevo zero Eh, partiamo da zero a zero Se erano due pari Allora si riparte da zero Schifia Ok, lo sto controllando Allora si riparte da zero Allora si riparte da zero Quando tu fai le kill, perché... Sì, due pari, avevi fatto le due kill al Gulag, poi loro sono... Sì, sì, 0-0. Vado meglio, che eri pure crashato. Abbiamo provato a f***erci le kill invece. Beh, non è più niente. Non c'è niente. Volevamo fare furbi. Eh, no, eh, più che altro... Comunque loro giovano un botto safe. Wow. C'è un'unica punti dove non c'è un cazzo di nessuno. Io ti errei se è il top, sì. Ma in realtà sai che se moriamo allo start noi, vorrebbe essere una bella tattica da loro. Però bisogna essere scarsi a mori allo start. No, scarsi, avrà anche un po' di sfide di qua. Guarda, cazzo di gente si butta. Ok, sono tutti lì, sono. Non ce ne sono. No, non puoi andare a pallone. Casa Bianca, casa bianca, casa bianca qua. E elimina tutti i grassagli. Pronta gente che c'è. Un flash. Metto un sonar! Con calma, Goga. Questi erano veramente troppi team. No, era un team da quattro, era. Due. ho sentito questi? sparono bombarda posso spaccarlo? eh ho spaccato tela qui forse c'è gente più al tunnel no però non ho fai dato sono andati più avanti qua dal pisello no? no no ok allora saliamo? si prendi la pistola la pistola di animanti qua è tutto luce eh lascio la casa di piastra lascio e tirala main sicuro c'è gente mi sto cercando di andare con calma ecco lì abbiamo gente anche in casa abbiamo gente anche in casa si mi hanno fatto ti spuscia gli altri sono quelli lì che hai visto salire mi hanno messo one ma non ho caso in teoria non mi riesce a fare una kill nooo mi ha dato la kill sei nel gulag sei nel gulag combatti per rientrare in natale entra in casa comunque la prossima e me l'ha rubato vai tra vai tra l'importante è che l'hai vinto quanti kill hai fatto? zero me l'ha rubato ma boh l'importante è che sei vivo è l'unico che stavo sparando paccaforte oh qui vicino ad airport e li riporterò nella zona di guardia inizialmente dove sono loro due? se ci sono 3 kill se le potremmo fare qua eh caggettissima mi rubo anche il loot possibile ma cazzo ha fatto a non prendere la mia bomba questa? mezz'ora ma ci morivo pure un'ora per recuperare la vita che è successo? che muoiono? eh... stanno pushando il tuo team è nella traccia ho wait un attimo in bolo io si siamo up di 3 kill noi abbiamo già fatto il gulag però wait 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 quella è la ed eccolo qua l'altro ah uno l'hanno fatto sei già morto quante kill hai? zero sto venendo nervoso e giro a più tranquillo io ci provo dovrà abbassersi per tornare in casa ma è un buon attimo sono andato nel punto dove c'era gente a questo punto c'è un bollo di loot ma non trovo qualcuno mirabile se non è il caso occhio qui stavo puntando a tua casa mi sa eh di end in rage ah cazzol'ha fatta la kill da 2 e fa no una pure con un botto di soldi come? eh si ah non ho preso quelli della della roccaforte è riuscito a luttare perché era arrivato l'altro team stop uno ce l'ha fatto se resta una l'altra è il problema che non c'è soldi oh no cazzo uno l'ha fatto si sono fatti entrando hai un resta? lo so però hanno fatto proprio la position per restare è un po' bruttina c'è gente non c'ho uno shop dietro aspetta che te lo pingo no lontani lontani il più vicino è quello dove c'è l'acqua o prendi la macchina e te ne vai? no ho resto lì le hanno fatte tutte e due quanti chi l'hanno? pari siamo tre pari tre pari una kill bust direi provala eh si è quello che sto facendo se non pari la provo però vado stai con me come una lumaca eh si si buona non c'è aspetta occhio poi al resto se lo fai devono essere uno di loro per esserà una fine 20 ore non ci dovrebbe essere più nessuno 10 ore non c'è 10 ore non c'è non c'è eh non è quello che hanno preso l'hanno fatto qui non mi hanno busciato lasciami dei soldi che compro un'arma magari adesso me la faccio anch'io mi stava scappando la levetta stavo per restare occhio a non restare vai con calma sai noi i tasti come li devi preme se mi troppo i soldi mi faccio un'altra arma faccio la fennec no mi si è bloccato il cosa vuoi la fennec no no abbo no no shoppatela tu se la vuoi tanto c'ho l'MP5 che buono lottiamo eh si mi servono una sacca non c'è fretta no 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 dobbiamo fare solo una fila non stai intanto ce le pigliamo lancio d'equipaggiamento per voi la sacchina aveva una sacchina non ci paremmo un po' toscolano la sacchina l'avevo vista ce l'avevo vista che l'avevi trovata eh si ma è responata eh ho visto quindi la taglia una taglia chiudi la porta per quando entro uav nemico quelli che avevi visto all'inizio mi sa questo ingaggio autorizzato una chilla una sola oh macchina o si fermano qui questi parano andiamo al palazzo ok passi 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 e la prima ce la siamo portati ok disputa la partita prenditi la sacca disputa la partita dacci la win oh no 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 lo franno exploitato ieri stai dei pangidi anche cioè ci ho provato di, disputa devo fare? devi fare disputa la partita dei miei Mette Winner Nostra. Match the tails. Oh, ma sei sicuro? Eh sì, accetta la perdita. E fra tu la devi riportare vinta. Accetta il pazzo. You, eh. Accept lost, c'è scritto. Ma come? You won. Eh, lo so che abbiamo vinto, ma... Allora, vedi, c'è admin. C'è admin e devi scrivere... Won. Dov'è admin? Ha richiesto un admin. Vedi che tra le scritte lì ci dovrebbe essere admin, a me non esce un server. Ad... Admin... What is... Allopt? Scrivi solo le robe importanti. Hai scherzo e accetta il pazzo. Admin... Admin... We... We... Quindi... Oh, e basta. Hanno capito che hai sbagliato. Scrivi solo che abbiamo vinto. L'ha scritto pure lui. Loro vinsero. Come me l'hai tradotto. Vabbè. Dobbiamo aspettare. Se l'amministratore ci dà la win. Dio Cristo. Ah, fai la clip delle kill, se c'è. Ah no, ok, a posto. Ci vanno dato. Ok. Posso aiutarti con qualcos'altro oggi? No, grazie. Vuoi un caffè? No, grazie. A? 一定... a me ne. allora. siähhhh E' la prima andata. Mezz-Occatemi sezione Voldemort Mezz-Occatemi sezione Voldki Vabbò, era all'inizio. stiamo molto calmi calma calma ragazzi calma questi qua li abbiamo battuti uno aveva 6 vittorie ad un torneo 8 secondi posti 4 terzi posti 55 55 di vincita quello era quello forte l'altro con lo scarso eppure sono più avanti di me in classifica lo faccio vedere braac la notte in bagno grazie per aver utilizzato checkmate gaming non dimenticare di scaricare l'app cmg ma si può scaricare anche l'app siamo ai quarti questo round 3 round 4 round 3 ai quarti round 4 semi no quarti semi no ai quarti del cazzo che non è vero dobbiamo aspettare allora devono fare ancora il primissimo match vincere chi vince deve fare questo match qua un altro match ancora e chi vince fra minchia lunga lunga ancora qua è lunga bubino vuol fare amicizia con te ma perché bubino vuole fare amicizia con te ma perché bubino vuole fare amicizia ah no perché non è una lunga perché bubino vuole fare amicizia con te ma perché bubino giustamente ha finito il match 6-4 6-4 e cronox 30-36 dai fattibile novizi tutte e due bubino 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 dobbiamo accettare l'oro oh comunque già abbiamo il match si si lo so contro bubino ecco ho entrato bubino gg per bubino si chiama bubino gg per bubino bubino e match jack ah sono già entrati da noi eh si abbiamo lost noi si si posso startare si eh se vuoi eh no no ma io non ho voglia oh ma vaffanculo ahah do un attimo cambiare scena alla gamma aspetta vai vai sono loro è il lobby comunque mi sai che sono tutti europei in un mondo grazie a tutti ma vuoi questo sta streamando su Twitch il casino non sa che è bannabile anche il posto fatto bene qui non sa che è bannabile comunque loro hanno lendato in un posto di Cristo hanno dato subito i soldi hanno dato pure il team contro che sono morto si questo ti fa capire che ah comunque fra prima di quando quando e se vinciamo ah devi far vedere le kill in live solo che se quittano veloci eh si prendono la sconfitta e basta ma funge così questi non sono forti eh dai let's go ma anche noi siamo senza stats su CMG abbiamo vinto un rusco e l'avevano non importa non importa la facciamo dai 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 infatti mi sto mangiando le caramelle e i cioccolatini della calza peppone in un torneo cg cold un danno alla carica devo dire sia davvero serio questi vengono all'osservatorio anch'io è buttato a 1.01 guardali no qua viene la palla dietro di te sto cambiando l'entrata minchia a quando ma zio nooo eramo quasi morto ma e ho fatto l'ho fatta non lo so fra non mi ha fatto vedere anche la chi come se città eh te ne ho sparato in due te ne ho sparato in due una chi me la son portata però dai dai cazzo dovevo morire subito così si zio ma vabbè la traccata che mi ha fatto non ho avuto il tempo di spezzare il cara il paragadute boh bah vabbè muorici si 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 cazzo sound non c'è niente c'è teleport esatto aspetto a qua sono compagni di team probabilmente ci muoio mi hanno pushato insieme mi hanno pushato insieme l'ho ricercato sto vicino a loro nooo perchè te la testi così tanto vicino? no ci c'è un contratto trova i soldi per resta faccio quello eccalo partita di sfiga di merda visto? scendo mi fa una in volo così a caso l'arraccata del cristo boh la fortuna sempre dalle mie parti abbiamo individuato equipaggiamento prezioso in container nemici trovali e recuperalo va bene in direggia stanno fightandoli senti vedi che qui dentro c'era una cassa comunque dentro sta cassa questa? sono l'altra dove riesce boh non ci pensa scappa cambia il zone cambia il zone sono pure schiari fai tagoga prendi il treno se riesci dove per tirare un bestemmione stai sfiga puro che il questo è ossia Vedi sto negozio, vedi sto negozio Cazzo, c'è nemici E scappa allora Cazzo, pushano Ce l'hai dietro Eh, lo so Italiano No Non devo passare io la partita a reghenare te E moriteci La sfiga di merda che abbiamo La sfiga di merda che abbiamo Il bello è che la puoi tenere solo 3 secondi la pistola In volo In quei 3 secondi lui è riuscito a killarmi Eh, questo è il forno Al B Eh Non ci conviene Sono gli aiuti Erano nemici vicino Stanno sparando Qua di solito c'erano le casse E' un po' di solito c'erano E' un po' di solito c'erano Buona, ce li hai Ce li hai, ce li hai Di reggio Resto di eri Molto meglio Ah, regheniamo sto cazzo di game Che non c'è andata una buona Dallo start Non c'è andata Un grazie di cosa buona Quanti kill hanno l'oro 3 3 Un 2-4 Bravo UAB nemico in volo UAB nemico Ho lanciato quelli del Questa cazzo Buona C'è un botto di soldi Ma non ci sono armi Dove erano più o meno questi? Eh, qua Quindi non è che ce le becchiamo Quasi in patch Il gas si avvicina Nuova zona sicura Localizzata Le armi Ma ce le facciamo pure noi Non la faccio apparmi in arma Questa è la pure tu Io ce le ho entrambe ora Serviamo un po' di soldi Se dovrebbe morire qualcuno Di noi due Ce ne sono andati Abbiamo regenato Ma non dobbiamo fare più cazzare C'abbiamo il team dietro Vedi quello alla torre Ci cade un loadout in testa Mi dissi Sì Guarda l'asce dell'aereo Eh sì C'è buona questa Vieni a prenderci Di 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 Capito Di lusse Oh c'è questo team qua Miriamo un attimo il loadout Che kill magari ce la pigliamo Questo si può salire subito Adesso provo a prenderlo Qua c'è la mia pennezza No ce l'ho tanto ho comprato l'altra Uno è morto di loro Quello è morto ma C'ha il gulag C'è gente C'è gente Dov'è? Sì Sopra Parano Attenzione Parte del tuo team è fuori dalla zona sicura Fuori di me Due Due c'è uno fantasma mi sa Uno è sceso Sì qua L'altro ce l'ho proprio sopra di me No no l'ho nottato Fatto Buono L'altro è proprio sopra di me Visti Eh sì due con me L'altro è un fantasma Sì È un full team Il tuo compagno ha perso Mi sta continuando a piccare quello Visto? Hai visto pure a me? Mi hanno peccato Qui sopra Riusciamo a fargli il giro? Eh quello che sto provando a vedere se ci sono le scale Sì erano da queste parti qua da me Occhio però che questi probabilmente se li aspettano Noccato Bravo Non ho colpito Non ti posso più aiutare Dopo di me Lì di prima Noccato Motto Mentre scende lì Lo vedo Ti lancio la smoke? Vuoi? No 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 Ne è uno sopra Tranquillo Sta bene Sì Hai lanciato bombarda Dove è sceso? Ha morto Boom baby L'altro sarà buttato qui da me Mi hai toccato il telefono qua Mbe c'è tocca Un cazzo di piastra Quanti che l'abbiamo? 8 Dobbiamo provare a salire? Eh, l'ultiamo lì un attimo Ho fatto due kill così questi Quattro 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 Nemico nato Nemico in arrivo Ah, hanno arrestato eh Andranno a prendere l'oddy sicuro Davanti, davanti qua Vera L'altro è lì sopra L'amico Fatto E l'altro ancora più sopra dove ci sparavano prima quelli eh Uno è andato a prendere l'oddy Knock 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 N'altro Cato Arrivo Ma nooo che cazzo ho fatto Buono 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 E' assi in arrivo C'è una nuova zona sicura Non male va che abbiamo trovato i polli Con lassi belli presti Evasione No evasione 12 a 9 Ma in realtà ci sta sai Loro non hanno il gula 10 10 12 a 10 Sto salendo sul tetto io Anche se però abbiamo l'evasione Si Infatti mi nascondo Si sono le rianimante? Bravo ormai Mi nascondo anch'io Ma vediamo se qualcuno scende da noi No No Scende nessuna caga Perché siamo fuori 6 Torneo vero Si si è torneo vero E arrivo Torneo vero adesso siamo al Terzo round Il gas inizia a dividersi Tenete gli occhi aperti Ok mi sta laggando tutto oggi Lì ci sono le casse bianche vieni Anche sei libero Prima hanno fatto la roccaporta Ah no l'hanno dotato L'hanno dotato Affrittati verso la zona sicura Non ci sarà più un cazzo Vole a controllarlo stesso Aspetta Ci do un po' di soldi nel caso morissi Oddio Arriva la roccaforte Ci proviamo Ci proviamo Ci proviamo a vincere A me tanto l'odd non serve Anche a me Vole a mandare a dar village Tieni un po' di soldi No Ho lasciato tutto Tieni un po' di soldi Tieni un po' di soldi Tieni un po' di soldi Sì 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 Ah no 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 stanno fai tanto fra di era visto Dove? Sì ho visto 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 Sì ho visto visto Il posto qua mi torna in mente qualcosa di carino Sì ho visto Due kills un po' che Dobbiamo farne almeno Altre Dieci La possiamo fare Dai cazzo Uabini Uabini Nemico Visto Visto No I bot quelli I bot non li tirano i grappoli però Eh lo so L'hanno tirato dalla torre qui Quella è un bot Lasciamo avesse bot Oh Indietreggiamo di nuovo Andiamo a nattar village A questo punto Quella è una In movimento Sto parando di morire come i polli Sto rosicando abbasta l'anzasto che mi te lo giuro Vai tranquillo vai 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 Gioca gioca Qua c'è la gente Così sicuramente ci sarà ancora gente Ok Ok L'autoress però Possiamo salire Vado qui Come proviamo Ok No se l'è salto Buono Buono C'è il gulag Sound C'è gente Un tuo compagno è nel gulag Chi sopravviventi guadagna un minuto C'è uno C'è uno Ce n'era un altro No qua ci sono i bot di solito C'è un altro team Assemblato Ci sono i bot vaga Sali A me mi era sembrato di vederlo in lontananza Sì Punto più alto di Akhtar Village Questo Sì Eccone uno No cato Ok Li lancio il bombard Vai C'è uno Cazzo Uh sotto Ponte 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 Restati 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 Bombi Mi ha fatto anche a me il bomb Mi ha preso dietro fra Non ci credo Non ci credo Ti devi restare prima fra Eh sì 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 Non volevo sprecare la stimolante Sono morto come un coglione Ti devi resta molto prima fra Sono morto come un coglione Mi ha fatto il bombardamento a me dietro invece che stavo scappando Dai muorici 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 Ah no Siamo Ma no ma non dovevi morire Qua se la buttiamo Qua se la buttiamo Qua se la buttiamo fra 13 e 10 Qua se la buttiamo mi incazzo eh Eh quasi Qua hai fatto una cazzata enorme Koga Non ti resti perchè volevi essere stato a me Cazzata No va bene Mo dai via dobbiamo solo aspettare questo qua e Speriamo che muore Eh sì Però non possiamo andare a fortuna Eh Non possiamo andare a fortuna Questa Mi conta che è molto piccola la safe non ha armi Scenda dal Gulag quest Eh sì però ho capito che se ne kill anche solo uno Anche solo uno può recuperare il game Eh che muori Eh che muori Eh che muori Però te l'ho detto Non dobbiamo andare a fortuna Che lui deve morire Ma sei sicuro e gli vince Eh non trovarmi Eh che non le trova Dobbiamo andare in open Eh che c'è un team da 4 qua Che culo di merda Guarda te guarda te guarda te Si col culo che a lui se lo fa Tanto fa c'è la cosa di figura Capito che si prenda i miei soldi No c'è un vicino per restare poi E' impanicato E' impanicato E' impanicato perchè voleva recuperare il game 3 kill devi fare tutto Non è che sono tutte queste kill Basta che ne killa uno C'è soldi per restare il compagno poi C'è 9 live ancora eh Un wager serie è boh Resta cazzata in una wager serie Ma non era una cazzata più che altro Perchè c'era il tempo materiale per restare Poi avevano il bombire Vabbè Cazzo Ma che culo 3 claimor ha preso Non è morto Sì Si cazzo Vamono Vaffanculo Quanto cigodo guardo Preso 3 claimor rimbocca Non è morto Non possiamo andare a culo goga Non possiamo andare a culo goga Lo so lo so Lo so Che cazzata Per culo Non era una cazzata Si era una cazzata goga Questa legame E' morto No Era una cazzata Appena c'è le auto resti Ti resta subito pure se Fai caso che io ti volessi darlo l'ultimo colpo Ti dovrei resta lo stesso Cazzo Cazzo è il bracket Oh Non lo so Comunque non mi ricorda mai su cmg Eh no no Nenca a me Il pacchetto bonus acquista di 5 Ricevi 5 crediti gratis Ah devo comprare 5 crediti Eh La prossima partita Si ma gliel'hai reportata la win Si 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 Gliel'ho data all'oro Gliel'ho data Bravo 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 Siamo Al giro 4 Poi Prossima di questa C'è Però Dobbiamo aspettare Altre due partite Oh Wad contro leoni 1860 Ah però abbiamo fatto una cazzata Eh Abbiamo fatto una cazzata Ah Quella qui è della Della morte del bombarda Si Ni No Si No che ni Si Si a foglia Accettabile Non è accettabile Miche Ho salvato la partita con quel team che mi pushava Eh 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 Quello è un altro discorso Ok Capisco Che significa scusi mi sono fatto 4 kg Parliamo delle cazzate che abbiamo fatto Che la cazzata ci poteva portare La La sconfitta No vabbè dai Migliorabile su quel punto di vista Migliorabile Quanto è stato Io il bello è che sono provato ad entrare nelle porte sotto Non ci riesco Provo indirreggiare Mi butto Bombardamento va Fine dietro Eh si è lungo È lungo Tanto lungo Bastardi Dov'è comunque che si vede il bracket Eh su Devi schiacciare il nome del torneo Ti fa vedere il bracket Staffa Compatto Ma al giro 4 Fratellanza Ma quanti team ci sono? Pochi in realtà Oh Un po' Ma ce ne sono Ma in realtà Cioè non hanno... Ma quelli che stanno giocando in America stanno giocando di mattina Eh penso di sì Prima mattinata magari eh Comunque si dobbiamo aspettare due turni Eh dai vado a comprare le siga al volo allora Mi porto il telefono dietro Eh ci sono problemi chiamami subito Tanto è sotto casa Mario Vabbè Mi riscaldo un po' con i bot Tornano Ehm Ehm Fum Chm C'è 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 bello sto startando che c'è anche Koga in lobby vai vai lo killo un po' così dico eh ho vinto 30-0 contro Koga dovevo metterlo a vipero dato che non c'è oh mi beccò Koga che gioca tutti contro tutti mi sa che neanche è spawnato eh no perchè non sceglie l'arma eh non spawna perchè non sceglie l'arma Martina eh nulla non si può fare ci ho sperato missione compiuta bel lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Bellasmo una grazie per il like Allora Fammi vedere partita privata Una modalità dove lui le armi non le può scegliere Non c'è non c'è gioco delle armi qua Vediamo se nelle regole c'è qualche cosa Tanto lui ci metterà 5 minuti Regole Giocature Gioco Grazie a tutti 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 Spawnare Gioco delle armi Eccolo qua Sono riuscito a farlo spawnare Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Devo aspettare che la negli fa vedere la vista Grazie a tutti 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 Mi tocca killare Goga Se arrivasse a lasciarmi se non sbaglio Però come ho impostato io le impostazioni Non dovrebbe essere Bello che non mi ha dato la kill Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma l'ho detto io che mi stai rollando. Però? Però stai facendo 1v1? C'hai fatto 1v1 con me e perso 19 a 0, Koga. Eh, grazie a cazzo. Fammi fare lo screen e fammelo mandare sul gruppo. Fammi fare lo screen e fammelo mandare sul gruppo. Eh, c'ho il VOD, quindi non so quanto ti convenga. Fammi mandare la foto sul gruppo. Ti prendo per il culo per 10 anni. Ah, allora no. Oddio. Mi son dimenticato che tu hai... Hai un potere. Io ce l'ho la clip, eh. Ricordati. Madonna. Bello è che con che voce triste me l'avevi detto. Eh, eh, eh. Siamo subito di casa. Ora quanto torna Martina? E tra due ore. E veda Martina. Arrivo. Eccle tina. Ah, Koga, forse uno dei team che viene con noi, mi sa che... Porta? No, che è americano. No, che palle. Fammi un attimo vedere, sto vedendo. Eh, controlla lì un attimo. Eh sì, sono americani. Eh, due coglioni però. Fammi vedere anche se l'altro team è americano. Sì, sono tutti e due americani team. E se ostano loro è finito. Chi è che dice che è chiosta? CMG. CMG? Un po'... Io faccio visualizzazione. Chi è in tedesco? Te lo dice in base, tipo, ai piedi del team. Perché c'è la traduzione in tedesco? Tedesco? Boh. Non lo so perché la traduzione è in tedesco. In tedesco. In tedesco. Vai da Martina, fatti accompagnare. Ti stavi credendo, eh? No, ma... All'ultimo... 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 Potevo. Potevo. Allora... Ehm... Lingue. Poi hai fatto un sorrisetto e mi ha fatto capire... Stai a ridurre di tante cazzate. Perchè cazzo? Cos'è? Ah, hai fatto una partita. Lingue. Start a tour 2 versus squad, eh? Hai capisciuto? Allora... No, ce l'ho in tedesco e non me la traduce adesso la pagina. Ma come? Che significa? Eh... Cambiagli la traduzione, come hai fatto? Eh... Ho fatto tutto lui. Come lo metti in tedesco lo puoi rimettere pure in italiano. Eh no, il problema è che non me lo sta facendo più. Riavvia la pagina. Fatto. Niente. Perché scusa, non sai parlare tedesco? Andiamo. Dai, non me la traduce. Comunque è sicuro uno dei team che ci sta arrivando contro l'americano. Let's go. Tu controlla se abbiamo il match. Nooo. Togli, per favore. Lo togliere? Non riesco a concentrare. Sì, sì. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Ho giocato solo. No, no, vai. Porco, tinci. La impostazione. Mi gira proprio il cazzo. Fai, fai, fai. Fai tutto quello che dico. Privacy. Tanto c'ho le mani più calde di prima. Quando non lo sta a fa nulla. Lingua. Lingua, italiano. Italia. E tu li avevi messo tedesco. Adesso c'ho il tedesco, ma è italiano, e avvia. Provo a togliere tutto. Ok. CMG. Dove sei? CMG. Dove sei? CMG. Niente. Niente. Ma... Io fa. Prima mi usciva la cosa della traduzione. Adesso non mi esce neanche più. Stai in alto a destra. E esco a tutti. In alto a destra. Nella... Nella barra di ricerca. Sì, impostazioni. Vado su impostazioni. Vado su lingue. Metto italiano. E non me lo toglie il... Ma lo riabbiamo. Ah, usa il Google. Che cazzo è questo? Non me lo traduci in italiano. Madonna. Probe a seguire fortissimo. In tedesco. Tutto ma non il tedesco. Almeno l'inglese. L'inglese, cazzo. Capito il PC, sì. Ma no, mancammi un cazzo. Ah sì, che cazzo. Aspetta, German. Posso cambiarlo? English. Aspetta. Ok. Messo inglese però, fra. Va bene, va bene, va bene. Inglese va bene. Va bene. Stai a parlare inglese? Sì. Prima gli hai scritto una cazzata a quelli. Noi abbiamo avanzato. Vabbè. Mi fido di Koga che l'inglese lo sa. Fidati che la macchia svanisce. Allora. Ma alla fine sei riuscito a entrare in casa? Eh, non lo so, sai. Fammi sapere. Ti dico. E tu non sei la telefono, no? Aspetta, forse abbiamo un match. Sto controllandogli. Ehm, no. No, 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 è quello di prima. Racket. Dimmi quando start il game comunque, credino. Sì. Ah, vedi, fra. Sì, in alto a destra, nella pagina puoi andare i tre puntini. Seleziona un'altra lingua e te lo fa scegliere. No, non me la faceva cambiare. Perché c'era quella di CMG in basso a destra. E cambiavi pure quella. Eh, no, no, infatti l'ho cambiato quella. Avevo scelto inglese, inglese perché è l'unica lingua. Ci sono francese, spagnolo, tedesco, inglese. Ma non c'è l'italiano. Ma io dico. Ma mannaggia vostro Dio. Minchia, l'italiano è parlato parecchio in qualche altro stato. Tedesco, forse solo in Germania lo vorranno parlare. E non... Ma vaffanculo, dai. Cioè, guarda, se non bestemmio, guarda. Comunque dimmi quando start il game. Eh, sta per startare. 20 secondi mancano. No, è prelobio. No, comunque mi sa che i team contro non sono inglesi. Mi ha detto una cazzata. Sono una cazzata, come sempre. Perché è la best start. Tu credi, tutte le cazzate. E fai sapere se sono inglesi, francesi. Te lo dice, quando vai sul loro profilo c'è la bandiera. Ah. No. È startato? No, ne... Anzi, dobbiamo giocarla perché a me, sai che lagga la prima partita dopo... Ah no, ma intanto non avevo disconnesso il gioco. Vero, vero, vero. Vero, vero, vero. Sono d'accordo. Ho i primi comunque... Fammi vedere sto team. Non avevamo rubare il kill, ma tanto? Fammi vedere sto team, sei italiano. No, sono americani. Un team è americano? Fammi vedere l'altro. L'altro pure americano. 15. Fammi vedere l'altro team qua. No. Allora, se vince un team europeo, si è messi bene. Se vince il team americano... Un po' di merda. Capito? Soprattutto se li dà loss. Se ce lo dà noi, c'ha one. Però già ce l'hanno dato a due game. Eh, quello il cazzo. Sperando che... L'unica cosa è che pingiamo 200, però in Toriglia ci dovrebbe essere una lobby di merda contro. Eh, sì, solitamente beccano lobby bottissime. E il problema è farle kill. Quelle cazzo di lobby. Non perché siano scarsi, ma perché è proprio una merda giocato. Anche se ho giocato in America, eh. Sono belli cazzuti. Hai visto coso... Guller, quella volta che aveva fatto la sfida a 100 dollari. Sì. Minchia, quando ha giocato col suo host, facile giocarci. Che c'aveva 100 di ping, c'aveva almeno. Era 18 ping. Eh, 18 kill. Diamo al pallone. No, quello era il terzo match. No, quello era il secondo. Il terzo poi l'hanno fatto con l'host di Gull. Che Gull a pepe. No, avevano vinto una a testa. Vabbè. Ma io ho fatto con il suo host, Gull perde con il... Se capito un cazzo, un po' tornè. Ho cercato, ho preso questo. Andiamo, andiamo, andiamo. Gloshop. Arriba. Non sarà mai uno da solo, ragazzi. No, però, intanto. Arrivo con molta calma, allora, l'aspetto. Non troppo. Arche uno l'ho messo a terra, già. Va, va, sì? Sto correndo. Non ti puscia nessuno l'esterno. Ancora un esterno? Non lo so chi mi ha fatto. Uno top, uno top. Non ci credo. Ecco, GalGG, abbiamo perso. Ci credo. Che bait questi. Sono morti. Bait della vita. Metti che non è servito a nulla, perché già si sapeva che non fa. Intelligente, no? Per rendere la corona allo start. Ma magari non era manco una scelta voluta, l'avrò preso per errore, spero. Perché se era un bait ridicolo. Spero. Sono morti, però. Se l'ha fatta con te. Sto reigenando. Non credo. Mi è schiccato. Mi è schiccato. Ah, è andato a sinistra. Bro, non morirci. No, l'ha craccato. Non so. Il tuo compagno ha perso. Se non lo ricerrai più. Già mi scarso. Ma due kill l'ho fatto intanto, cretina. Guarda che quante ne ho. E son vivo, però. Beh, me ne avevo portate. E andare dall'altra parte, dove ci sono i registri. Cazzo, ho lottato prima a quel che è mio. Diverse roccaforti identificate. La mia error Moonblacks vuole fare amicizia. Aia. Vedi, allora mi sa che hanno vinto gli americani. Esce, esce. Esce, esce. Hanno vinto gli americani. Fammi vedere. Lo devo dire. Fammi vedere, fammi vedere. Sì. Entra che iniziamo, bro. È italiano. No, te lo raduce da solo. Come fa a te. No, ma è su cosa mi ha scritto? Su qua, su code. Allora, sono italiano. Hanno vinto gli europei. Sì, hanno vinto gli europei a posto. GG. Non Blacks98, mi savi là? Lo conosco. È la bro? È la bro? Sì, 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 sì. Sì, ci sono, ci sono, ci sono. Invita. Invita mi, coca. Invita mi. Invita mi. C'è? C'è? Non ti vedo online. Basta che mi ricerchi. Sto quando non lì mi. Aspetta, comunque, fammi vedere. Ah, ti puoi andare. Sì, è lo stesso. Quindi, occhio. Non ti fa ingannare, bolla. Ma, mentre come siamo combinati, vedete. Questi siamo su Discord, sicuramente. Sì, siamo su Discord. Bravo. Sì, come il D'Academy. Qua ci sarebbe un'altra partita. E se mi finirà, c'è V. No. De tre, barra, quattro partite. C'è sì. Comunque sì, ho stato loro. No, sinceramente non mi ricordo di te. Non mi ricordo per... Tornei su Rebert. Ma mi sentite? Ma come li faccio a mutare? Mi sentite? Mi sentite? Sì. Sì. Dove... Comunque non mi ricordo. Mandateci la richiesta di amicizia, ragazzi. No, non vi fa mutare. Hai ragione. Non mi ricordo. Non ti ricordo. Bene, bene. Vabbè, tornei con... Cosa? Viti? Pat... Pat... Patlegio. Patlegio. Tornei con Patlegio. Patlegio, non mi ricordo. Patlegio. Comunque la d'allarme in azione, ma... Eh, ho giocato per un breve periodo, poi adesso sono da due anni che... No, un anno e mezzo che sono tornato col pad. Ho ritornato più forte che mai. No. Bene, bene, bene. Buo ragazzi, suoli. Buono. Metto di nuovo il push to talk. Io muto diretto. Sì, sì, va, va, va. 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 Sì, va, 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 va. Ciao, raga, ciao. Ok, a voi. Ciao. Meno male che ogni tanto becchiamo qualche italiano. Almeno è più facile conversare. Esatto. Che testa schermata. Infinita. Infinita. Vabbè. Possiamo prima di entrare sulla aerea. Controllate l'attrezzatura. Schieramento in linea. Ok. Ah, post. Vamonos. Io non me lo ricordo sto pata che aveva nominato. Pataleggio. Pataleggio fra l'organizzatore di Warab. Dei tornei Warab. Warab? Warab, sì. Io non ho mai giocato uno. Forse sta parlando di Andre. Non si chiamava Koga. Tornei di Warab. Non mi ricordo neanche uno. O li ho giocati non mi ricordo. Mi tende a aver fatto tanti, no? Stay focus. Sì. Non guardare il mio ping. Diamo sempre osservatorio al pallone. Sì, sì. Anche l'oran ha scelto un punto dove si push. No, 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 no. Io l'ho pingato lì. Ah, ok. No, ma vengono osservatori, pure l'or. Vengono. Andiamo. E' un fatto. No, loro vanno più a destra. Sì. Team, al bianco. Vanno al bianco, vanno al bianco, vanno al bianco questo. Ah, ho capito. Vuoi curare? Ho tirato io. Usciamo questo nel frattempo che da solo. E' un altro. Eh no. E' stato dietro l'altro amico. Era fatto. Altro sopra. Senna. E' un'altro amico. Chi sopravvive si guadagna un rientro. Ho capito quelli main. Evita lei sopravvivere. E' buttato? E' buttato, è buttato. Non lascerei. Staccato. E io non gli posso sparare, non ho un assalto. E' anch'io. E' un'altra misoglietta. Due, come sta andando? Ha fatto spiegare qua, 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 qua. Ioni! Capito? Ma ce l'ho capito. E li pingava però, lui avviva. Ora il tuo compagno è nel culac. Se sopravvive, tornerai na... Due, via. Devi andare con più calma. E' penso fosse da solo, lì. Buonasera, arma. L'altro era più a destra. Lo avvino in gatti, che è un qua. No, no, ma non era più vicino. Ioni! Valle. Non c'è un'illacca. Sono del loro morto. Massimo c'è i soldi, eh. A morire. Il tuo compagno ha fallito. E' stato fatto alla fine. Grazie per il like. Vai, gioca. NANI! Ok, ho capito uno. Mi hanno pusciato in quattro. Sì. Grazie, Dani. Il combatte per tornare in azione. Quanti kill hai fatto? Due. No. M'hanno fatto per a me. Tra il gulato. Uno, sono riuscito a portarmelo. Non so se scendere da loro e rompere il cazzo. Voglio giocare la solo. Sì, sì. Devo dotarmi qualche zona safe. Roccaforte. E' vicino a loro la Roccaforte, però. Spero di non beccare di nuovo due compagni di team fissi. Uno di loro è morto. Dovevi vincerlo, eh? Ho fuso le muni. Sono morto. Che palle! Mi ha pusciato là dietro! L'ho messo one all'altra. E' come sempre il mio compagno di team non fa mai un cazzo. Non fa mai un cazzo. Neanche lo cracca. Ma che idea di merda di mettere il gulag uno contro due. Che idea del cazzo. Eh, se c'è un'andato questo. Il gulag... Due persone. Aiutarei cazzo di botta. Per pari. Per qua sta calmo. Wedger perdo il gulag perché mi becco i team grichistocontro. Partite normali no. Va bene. Tranquillo, tranquillo. Non mi ruotare. Quando gioco di merda mi incazzo io. Che vuoi? Sono delle mine qua. No, è una conquista, cazzo. Che vuoi? Oh. 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 C'è un po' in casa. Ecco. C'è mio pingare è una choppa abbastanza safe. C'è mio pingare è una choppa abbastanza safe. Puoi prendere il quad e andare qui ma stanno facendo la roccaforte qui. Se no puoi andare sul top osservatorio che stanno fightando. Se no prendi questo e poi prendi l'elicottero. E provi ad andare qui. Non c'è uno shop vicino. No. Quello più safe in teoria sarebbe qui. Eh c'è una gente a quella parte. Comunque siamo a 3 a 3. Arriba l'attacco con mortaio alleato. Se ti può interessare. Stanno facendo una conquista lì. L'hanno fatta già. Stava qui la conquista. Lo shop invece sta qui. L'elicottero comunque l'hanno preso. Te l'ho visto visto. Dai che muore. Eh non li voglio aspettare. Non li voglio aspettare. No no. Lo pinga ancora. Poi puoi prendersi a due macchine e camion e taglia. Qua gente qua. Ok una morte. D'altro pure. Eh una macchina. BULAG Quindi stai calmo Ah no E' 3 a 3 allora Mi devi solo restare Faccio gente qua Mi sound Già un calmo Con tanta calma Ti tolgo il ping dello shop Si Thanks Allora c'è gente qui Ci stanno fai tanto Ci sento anche qui vicino Io posso però prendo un loadout Lontano Non la rischiara Anche dobbiamo ricominciarla L'ho messo a terra L'ho messo a terra Merda Trovo il loadout Ti guardo mentre fumo va Puoi camperartelo A via No 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 non uscite se fate la kill e se c'evasione vale invece esco non usc'e fattato, non usc'e fattato non usc'e fattato aspettare evasione inutile Grazie. 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 Perché mo li sento di nuovo a questi? Ho visto, ho visto, ho visto, ho visto. Dai, ricominciamo. Vuoi cambiare l'hand, Koga? No, no. No, perché io ho un posto dove sono sceso con Robertinho. Non cambiamo la strategia in corso. Non è che non sia stata approvata. Vamonos. Che sfiga di merda. Sia la mia che mi stavo portando a casa la kill. No, no, io ho quelli dentro, mi fa l'amico da dietro. L'unico che non era dentro lo stanzino. Non lo so, l'ho visto, l'ho visto. L'unico che non è dentro lo stanzino, infatti. Siamo un po' lontanini, ma non dovrebbe arrivare troppissima gente. Certo. No, già da ora ce l'abbiamo buttato. Allora. Ok, come ci va, mi sa. Sono uno proprio davanti. Lo sto puntando. Sono una vannatara. Io non rendo come rendo quando faccio le pubbliche. via. Ma tranquillo, va. Sei focus. Sono uno proprio qua, eh. Andiamo portarci a casa subito. Come fai? E l'andiamo dove l'enda questo. Ok, si sta buttando a capofitto. Stanno andando al pallone, come sempre. Eh no, la gente è dietro, non posso seguirlo. Stanno andando al pallone. Abbiamo un team che scende dietro. Sì, l'ho visto. Da parte di dietro. Si, scende 5 persone. Uno scende andando nel pallone, Fra. Mario? Sì. Apri la porta, spacca subito. Tato. 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 Sono idiota! Siamo avviati! Gli altri nostri pressioni non è andati. La parte di dietro, gli osservatori. Ok. Siamo avviati. Un'altra parte di dietro! Poi va a salire, dopo. Ma what the cazzo! Sto trovando solo cazze Legend. mi vedi a pisello mi lascio appare in arma in zona mi sa che l'hanno trovata dentro le casse dove fa solitamente la roccaforte non avranno trovata le casse bianche trovati la sacca dopo la parola la prendo dopo arrivo da te sono vicino non lasciare in mezzo la strada comunque c'ho tutte le texture buggate che vedo tipo verde e giallo no no non è un problema non mi dà fastidio non ne vedo di qua fin da uno stiamo trovando siano anche loro ok ok la telegine e vai un tema un tema top main ok stanno pushando stavano Attacco aereo alleato! Ti chiedo un attacco! Sopra! Spera! C'ho lanciato anche un attacco di mortaio Attacco aereo Questa è il gondalite da parte No ce l'ho sotto Un attacco Stato Sopra Sopra un altro Koga Sì Sì sì, sento passi Se usciamo in due ce lo facciamo Guardi qua Sotto, sotto Casa bot Stai fai dando un altro team C'è un botto di gente Koga Ti pusha da dire Koga No, uno Stavo toletzando Anche il mio Dovano armi questi? Non lo so Prenditi l'autoress di questo qua Questo tipo Dov'è? Va dentro il giubbotto fuori Ah Quello di fuori Non dato il team wipe eh? Facciamo il giubbotto Oh no, è l'autoress C'è un radar portatile Sono andato di nuovo alla cupola io Arrivo Passo al basso A me non vedo nessuno Gente è lì Buon movimento Ok Per ora ne ho visto uno Stavo la skinne rossa Ok Lo sento No, no, espera No, no, no Ho fatto Ho fatto Ho chiaro Sisi io le porte Ho fatto Come se hai fatto quella cosa Qua 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 Ah quello che abbiamo ammazzato l'inizio Oh non lo vedo Non lo vedo Ward Ho fatto ha dato team wipe non l'ha dato tira il radar portatile se ce l'hai no l'ho lasciato lì ho preferito la pistola di animante prendi questo 7-2 c'ho il bombarda però non lascio parmi l'altra arma c'è una pistola di animante qua c'ho l'autoress doppia l'autoress tu ho troppato i soldi lo shop oh un volo l'autoress c'è un'altra e l'avrà preso al gulag comunque di soli per i soldi prendi 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 l'armi per l'armare quando sto come non sappiamo però andata la cupola grossa ma e ci ho fatto pure la fennec entrambe c'ho la fennec super forte presa la terra è sceso uno comunque a sta cupola non ho più di uno ora è sceso un altro dentro non lo vedo devo salire sai che mi sa che si sono buttati all'elettrica tanto dobbiamo andare a quella parte piuttosto andiamoci andiamo ci abbiamo qui sotto qui sotto arrivo ma sta tenda qua sta tenda pingalo pingalo se riesce sotto sotto è sotto in tenda no ce n'era un altro si quello che abbiamo ammattato prima spaghetti kk non so se è lo stesso è lo stesso usciamo macchina che non mi prendo i soldi non la vedevo non si sono fermati oh macchina eh no sentivo è sempre questo sono fermati sono fermati una parte del tuo team è fuori dalla zona sicuro faccio bombarda o no aspettiamo il knock eccoli vedo in open caccato van 1 van tira tira il bombi tira il bombi bravo asciato vado a una casa a fianco che non posso io sono sotto io non ho visto il ponte non ho visto il ponte non ho visto il ponte sul ponte proprio non ce l'ho troppo da me mi ha buttato tocca l'altro colpito dove? mi fusha no mi ha avuto adesso ce l'ho in casa da me non cato l'altro ponte l'altro finca te finca te si si lo so in casa da me in casa da me colpito dentro casa in alto forse è sceso sotto mi riasco un attimo sei ancora lì mi sa in casa in casa non ce l'ho più in casa non ce l'ho più fin dai buono va man ti trovo la collina ho tirato cassa piastre dietro ah cazzo in casa ho tirato cassa piastre eh vabbè ti riesci ad arrestare vai si 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 c'è un altro c'è un altro c'è un altro eh occhio ho sentito la voce anch'io oh dietro dietro di me è stato è stato è salito c'è un altro è fuori mi buscia mi buscia c'è un altro team fra è un altro è un altro sì son due sei nel gulag combatti per rientrare in azione son due ma chi va va bene c'è soldi eh error man black appena responato io sto giocando il gulag con kalof simo qui avrete la possibilità di redeemervi per i nostri fallimenti ruggire ora ruggire com se lo faccio anche lui l'ha ma devo un'ioe vonde chi l'abbiamo siamo un ap di 8 Posso rivenirmi a riprendere il lutto? No, 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 è pieno, pieno, pieno di... Beh, l'odd allora Eccolo qua, eccolo Credo che sta l'odd abbastanza bene, non l'ha preso nessuno Dovrà abbassersi per tornare in casa Gli hanno messo una clamor sopra però Te ne abbiamo? Siamo a PTO Ok Deve vincere il gulag, bene? Deve vincerlo, sì Ok Ok Sound Pompa Porco giudo Non c'è la pistoletta come secondaria bello o non gulag Scusate, come è la pistola? Ah, ah, Michelix12 Buono e buono Sono morti tutti qua Braccato No No, mi ha fatto Vai, vai, compo Sì Cazzo, meno male, va Sploda, un è morto Gli altri vero ce l'ho tutti da me Eh, vado sei Non puoi venire da me Vado, eh, sono 14 Prendo il lodi Mi stai il grappolo in testa Dove sta il grappolo? Ma credo, non lo so se erano due Comunque io ho fatto tutto il loot Ho fatto tutto il loot di uno Eh, non c'è qualche tacca Eh no, una l'ho presa io Non c'è più un corpo Sì, in realtà sì Ci sono delle armi buildate Vieni, vieni Qua No, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho le armi E l'ho roba blindato Tu culo che hai ritrovato i soldi, eh È ancora aperta Siamo 15 e 5 Ah, 6 Sento gente, che parlare Ok Vado qui Arrivo Occhio che magari sono sopra Sì, sento anche io Non c'è nessuno In giro che chiedi Buon bene, va Amici UAB insieme a un bombardamento Prendi, prendi l'UAB, prendi l'UAB Sì, c'è ninjas Sta qui sotto di noi Mesto one Lo vedo Mesto one Più di uno, eh Il nostro UAB è in corpolo Mi devo curare, eh No, 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 non è sopra La sto coprendo io Mesto one Lo stanno pushando loro Ti posso aiutare ancora? Uno knock Lo push Mi ha fatto tutta la kill a loro L'altro è sotto qua da me Sta salendo È salito, mi sa Sì, sì Non l'hai presa tu? Mambo, è chill Vi ho rubato la sacca Oh, c'è sta macchina Passa largo Non può passare in acqua Sono bloccati Passa dove si passano loro Stanno crossando all'altra parte, mi sa O vanno al lobby In acqua non vedo nessuno Stanno fightando a destra Fra Nord-est Ok, hai visto Bravo No Vedo la kill Non so se ce ne sono altri Mi prendo la fantasma Sto coprendo io se è cross O alcun altro Vai Non vedo crossare nessuno Quanto siamo? Noi 17 Allora 8 17 8 Che merda C'è lo 25, sono pochi Eh, sì ma Appena beccano qualche full team Loro Dietro, dietro, dietro Ti cobrò io, ti cobrò io Stai in acqua Noi gli arrivano i proiettili What? La casa qua Ciao Dubbo anche questa sacca Io non prendo non cazzo Ha delle piastre Se delle piastre Riesci a darmene una dopo Rimango lo zaino aperto Cioè, morgo le sacche qua così No, non aveva, non aveva nulla Aveva solo la sacca Che non lo vengono a luttare loro Hanno arrestato, hanno arrestato Orovest Sì, 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 visto, visto, visto È sceso una Ovest Falli fai tar fra di loro Falli fai tar fra di loro Devo morire Ok Uno lo sta autorestando Sto autorestando L'ho autorestando Io non mi prendo una kill però Bravo Fatto io Era lui che li stava sparando però Eh, non lo poteva pushare Se era coperto C'è lì dietro? C'è lì dietro che si sparano Non ti lo sparero da quella parte Sì, anch'io li sento Sto autorestando Sto autorestando Lui non ha più i soldi Sta messo di merda lui Sto autorestando dove sta la macchina Ok Lascia di per forza la sacca C'è un autorestando C'è un autorestando qua, eh Div A sto zaino No, ragazzi Sono botte Anche il fatto che sono io Sono botte Sono botte Come qualcuno Ora non ho fightare Non scende Arriverà qualcun'altro? Dove te la kill? Inizia a rientrare Inizia a rientrare Sto coprendo io Non so da che cazzo Sono passati questi Ma Arrico Ha restato più avanti Listo Ti conto un attimo le kill No, abbiamo 20 kill da noi 10 l'oro Ok Non possono più Vincere Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Oh, vinciamo lo stesso Il game Vinciamo lo stesso Prendiamo la win C'è una nuova zona sicura Arriva l'attacco Con mortaio allerato Ultimi dieci Non devi mollare Nonostante ci sia il grappolo Oh Ne ho nato fronte Ne ho nato fronte Eh, lo so Non lo metto a terra Vi ha tirato il bomb Ti resta Quanto siamo? Ah, si è fatto 2 kill Lui 12 Lui 12 Loro 12 12 12 12 Qua Qua Stai in fondo a destra Stai in fondo all'autostrada A destra Stai in fondo all'autostrada Stai in fondo all'autostrada Stai in fondo all'autostrada Ah, è infrattato a qualche In qualche angolo buio Questo Nuova zona sicura Localizzata Di questo Sanno in infrattato In qualche casetta Tipo quella dove stai andando te No? No Da Simo Da Simo ce n'è uno Stai morendo Bella per Harry Perdonaci stiamo facendo Wager E' lì E' lì Fatelo Scusaci Harry Mi avete rotto il cazzo Tutta la partita Vi avevamo beccati due volte Vi avevamo beccati Maledetti Allora sei lì dietro Ma dove sta bra questo? Noi aveva fatto un bug di qualche siringa o qualcosa Ma è probabile bra Allora d'accordo Non è probabile Era dietro Hai visto che si è paccato Noi l'abbiamo pure vinta questa GG Ci sta Ci sta Ci sta Ci sto Bella raga GG Benvenuto nella compagnia black hole Bella per black hole Anzi ten black hole ten Si ma chi è che ha quittato scusami E' un genio cazzo Non ci conta la win Ah no non ci conta la win raga Ciao raga Ciao ciao Abbiamo buttato la win GG Bella 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 per noi Abbiamo giocato il team Il match dopo Sono Terminator Salutami Divine Sicuro si ricorda Ti ricordi di Terminator? Eh sì Ah quello è stato ammazzato Mumble Sì c'hai rotto i coglioni Quel pezzo lì di partita Maledetti Terminator Che stavo facendo Wager Eh minchia ci stavate Facendo abbastanza Bestemmiare Ci sta ci sta Grandi ragazzi Ma ce l'hanno già contata la win quindi Sì 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 Posso posso Abbiamo il match 6 Sì Quindi che è il semifinale mo? Eh semifinale mi sembra sì Semifinale Sì stavamo facendo Wager anche noi Eh sì me l'ha detto tuo amico Minchia Coincidenza vuole Che eravamo tutti in Wager GG Bella raga No mo dobbiamo andare contro No mo dobbiamo fare i quarti di finale Ah sono in quarti ancora? Eh sì 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 Questo team fammi vedere Fammi vedere che team è questo Sono europei a posto Europei no no stavo controllando dove erano Sono arrivati da poco sì Però hanno un bel po' di vincita Il tuo torneo ha iniziato E' mica tra i win Ha aggiunto Wuga Ha aggiunto Wuga Sì ma hanno aggiunto Ma chi? E' entrato? Ma sto demon fra l'abbiamo appena beccato in game Sì? Mi sa di chi Eh lo so che mi ha aggiunto Aspetta fammi vedere chi ho sta Dove cazzo c'è scritto? Eh loro 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 Ah boh non ci danno più un host CMG non ci da più un host Anche a voi raga Buon proseguimento Buona Wuga Speriamo di vincerla noi invece Prince Albert Torneones Sì ma sto demon un tag un po' più semplice non lo poteva mettere eh Ah ma l'ha aggiunto a me l'ha aggiunto Ma l'ha aggiunto Aspetta un attimo Mannaccio Lo invito Vediamo Quale massimo entra da te Prova a invitarmi già? Com'è ancora Però non ci arrivi No Era Era troppo difficile Per il mio cervelletto Dio mai ha letto Di social Per il mio cervelletto Per il mio cervelletto Come si deve Questa Era una bella Wedger Sì 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 Mi ha leghi quello che avrebbero fatto in un torneo Ma Aspetta 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 Guarda lì i loro livelli Livello 1 e livello 1 sì ho visto Dai Ma dai Puzzano un po' di merda Puzzano Eh sì 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 Se lo sai è vero che se giocano da pc non hanno le stream Vanno fuori dal torneo Vediamo se Si giocano entrambi da pc No voglio vedere se Eh chiedigli il link stream Chiedigli il link stream Sì Devono streamare obbligatoriamente Se non streamano si restarta il match oppure ci dà la win a noi l'admin G L H F Ma ha scritto Ma che cazzo fa? Che significa G H L F G L H F Non usare abbreviazioni Diglielo Mmm Non so delle tue parti Sperò lo capisca Link stream Non lo manda Mmm Non manda il link stream lo sai vero che puoi richiedere l'admin eh Admin questo ragazzo non ha la stream Dipende su tutto se vincono loro oppure no Non lo so Puzzano abbastanza di merda eh Livello 1 Livello 1 Si capisce dalle kill che fanno Ah no 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 250 250 Era bugato Era bugato Si Però la stream la voglio lo stesso Che cazzo me ne frega Buona Vabbè Capito La stream serve lo stesso però Minchia quanto urlano gli inglesi Puttana miseria Non sono inglesi questi Sono amerinesi No Quelli che sto sentendo adesso Coga Se non dovesse andare a buon fine Devi essere più veloce di loro a chiamare l'admin e dirgli che non hanno la stream Mhm Perché se l'admin vede Ah My team win Prende e chiude l'app e basta La win è loro Bella Andre Cioè What? Perché hanno guettato? Sì Appena è uscito il messaggio della nuke Perché si sono spalentati Vai esce esce Eh si esce Cazzo My mate was still in lobby Che significa He has this bug Che successe? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Vabbò C'era il team che stava a fare la nuke comunque Ah ah Che lobby di merda Lobby di mostro Che ho più Che cosa ho fatto? Che cosa è successo? Che cosa è successo? Non dentro? Ti sono dentro? Oh boh Zerazer sono in un torneo siamo in un torneo grazie per il like comunque fra boh c'è qualcosa sotto perché loro hanno 3 win no? ma le 3 win le hanno fatte sto torneo per andare da noi però hanno 20 euro di vincita hanno 20 dollari l'ho visto anch'io fuggono un po' di merda di entrambi perché entrambi giocano da pc buzzecchiano abbastanza anche perché se sono costretti a dirci link stream si possono far quante storie vogliono loro ma se non hanno later buddy mi ha scritto che significa? dopo vogliono chiudere subito la partita mi sa scrivielo adesso ora 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 me lo devi manda hanno annullato il game vuol dire che mi sa che sta mandando lo sta mandando sta mandando lo sta mandando scrivielo ora anche se di solito si fa dopo il game però scrivielo lo stesso ora Scritto per controllare La legittimità del gioco Della partita Vediamo cosa mi risponde Anche perché Tanto anche se guardo la loro stream Lo sai che ti puoi lamentare anche se Se non hanno i VOD attivi Sì Io c'ho gli attivi tanto Vado fra un torneo Te l'avevo detto ma l'hanno fatto restart 10 volte perché c'era un mio amico Calinzo c'era la stream che si vedeva di merda Poi l'ha chiusa, poi l'ha restartata Però poi non aveva i VOD attivi Le l'ha dovute attivare Madonna mia No fortunatamente Su quel punto di vista sono abbastanza studiato Io sono in piedi dalle 4 e mezza di stamattina You can check later my VOD buddy Ok Non vuole dire no Intanto è obbligatorio Poi chiamala Però è strano è che non te lo volevo mandare subito Ma tanto in ogni caso se c'è qualcosa di illegittimo C'ha One Li beccano subito Lo dipende È il primo torneo dopo mille anni che non faccio Su CMG Minchia sono già le sette e mezza Puttana maiala Eh boh Eh siamo quasi in semifinale Quarti di finale sono Massimo l'orario che può finire il torneo sulle 9 Massimo Dalle 5 mica sono tante ore E questo è un torneo CMG Eppure c'erano pochi team iscritti Non ce n'erano neanche troppi Erano 38 di me iscritti Se ci fossero stati tutti era tutt'altra storia Che t'ha scritto? Igping Igping Igstream Igstreams Igstreams Gli mandagli direttamente il link Igstreams Gli lo mando io Eh però mandalo pure tu L'ha mandato Che cazzo è che vogliono il mio VOD E non hanno il loro Io lo mando Ma gli mandagli direttamente Loro frate l'hanno inviato Ah perché dice che non hai il stream links su CMG E lui? Eh lui non me lo manda Lui dice che ce l'ha Dice che ce l'ha Aspetta un attimo Chi è questo che mi sta scrivendo? Principal Entrambi te lo devono dare Stai Mick? Neanche lui c'è l'afra Diglielo Digli il tuo link Io sono andato Slow War Relaunch Un cazzo Link del stream in chat Loro Non ti sei scoperto Ma cazzo le traduce le cose Eh non so Mine is linked What? Ma dove? No Scrivi ero No link è in chat Eh io ho scritto che No mandalo qui Che problema c'è Link Inviami il link Il gioco non è nemmeno iniziato E perché il tuo me l'hai chiesto? Perché non ce l'avevi linkato su... Eh lui c'è là No ma va Ancuno va Dai giochiamo Pagliacci Se pigliate scopole Minchia quanto rido Infatti è che non puoi chiamare l'admin Perché il match deve passare tipo 10 minuti Prima di poterlo chiamare Fatto apposta Comunque questi qua non hanno la stream Te lo dico Questi qua non hanno la stream L'admin non lo possiamo chiamare Boh Ah bello fra C'è un'altra nuke in lobby Ma quante cazzo di nuke sono Dio fa Palla Si Quante cazzo di nuke Eh una lobby di merda Palla Anche loro osservatori Sbagliatano queste Senza il link dell'altrima non vado da nessuna parte Loro vanno la palla Abbiamo uno a fianco anche Vado top main No fuck in volo No fuck in volo No fuck in volo No fuck in volo E' morto Fallo mori fallo mori fallo mori Ah si Si è vottuto qualche kill Si Uno Io pure uno me ne sono fatto In volo No E' due C'è cazzo di kill L'altra gente Ah il fatto che mi fa rossicare Non posso chiamare l'admin Perché loro non hanno la stream CMG è fatto di merda Stacca stacca qua Div Viata Il saccone No il tac 5 no Merda Lackman La vita Uff Ho ancora esso Stato Gianni Più avanti Sto facendo La scassa minchia Si Fuori Qua dentro Non so cosa qua Stato del bianco Davanti a me Ha arrestato Qui ho trovato delle corazze Stato uno Portato L'altro dentro Prima stanza a sinistra E' uscito Ruscia Non. Stato Stato Si aspetta bene Non so morti neanche la devono vincere loro la leggera attenzione la roccaforte ci prendiamo le armi disinnesco no lo faccio io è un bot è un bot sono tutti i bot esci da qui prenditi le armi ed esci i bot ti distruggono e non andare no che sta pushando gente li vedi quelli in open no invece si li vedo si stanno buttando arriva e si è buttato è andato qui sotto i bot mi hanno veramente rotto il tasso arrivo ti vedi? no aspetta qua stupito i dolpi della mia arma stanno un attimo no no uno sotto uno sotto uno sotto eh son pieno non ti dovevi buttare era uno solo questo è il gulag qui si combatte per tornare in azione non ci credo pure i compagni non ti dovevi buttare si in open era solo uno quello stava scappando da questi merda facciamo il gulag insieme comunque speriamo si siamo al gulag insieme siamo sotto di almeno 4 kg eh ah la cazzo di stream ok arrivo la merda di stream ho morto traccato no qua scendiamo alla roccaforte no non ce la fa prende due volte no non ce la fa prende no non ce la fa prende ma quanti chilano abbiamo Noi sei il loro set Ok poche poche Neanche loro faranno il sac quale ghid Vai 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 impegnati cazzo Dai cazzo duro Dobbiamo fare molto di più Dobbiamo fare molto molto di più Dai cazzo Non gliela dobbiamo neanche far vinci Assolutamente no Magari eh Mi chiedo tanto Non si è un tacchetto Stanno fai tanto main Eh lo so ma sono senza armi Con tre botte però Si dice che c'è quel fulltimi E' il problema che lo stanno fuggendo Dove un'arma in più per favore dammela No 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 armi Stingamela Ci sono pure loro Ci sono pure loro eh Eh lo so La merda Loro però stanno messi bene Non lo so se hanno le armi Però stanno messi meglio di noi Eh sicuramente Eh? Mi ha un'arma? Perfetto possiamo affidare Eh io no Cioè per me è meglio neanche in realtà Sto messo benissimo Oh quello è dietro Uno è rimasto dietro? Si No 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 Sto pilla lui Spira Godo Ho sparato con lo Recon Stavo aspettando che si restasse Il merda Non mi fa prendere l'arma Mi è desponata l'arma Dio Cristo No ce l'avevo ce l'avevo Ce l'avevo ce l'avevo La Vaznev La Vaznev La Vaznev No la Vaznev Questo ci aveva desponata Mentre io guardavo Oh ho fatto anche da quella parte Hai visto? Siamo padri al momento di kill Loro però hanno armi migliori di noi Oh è stato sotto Ho visto? C'è un lancio a razzi E' più di uno È stato il bombarda La sta fettando là solo praticamente Staccato uno Loro sono morti entrambi Godo Gli sto fettando io questi Ok arrivo Oh è salito sopra la casa Quello Non mi ha pushato Mi piastro Gli sappiamo Gli sappiamo che abbiamo anche il team dietro Infatti ci sta pushando pure l'altro Sali sulla montagna se riesci Oh questa qua Uno push in open Due pushano Stanno qui sotto loro Non li vedo E c'è anche quello dietro Visto? Qua? No 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 Mi è vicino eh Fra mi hanno messo one hit bot Non mi ha messo one hit cerchino in realtà Come l'ho luta? Nonchiano una piastra Arrivano gli altri Piastre per me fra Sì Tieni Merda C'ho l'auto rest C'ho l'auto rest Ci sono i botti qua Merda No mi fanno La maschera oro tanto eh Sono morti tutte e due Aspetta Noi abbiamo Nove L'ho rotto Abbiamo vinto Nesco abbiamo vinto Godo Let's go Buffoni di merda Quanto ci godo Mandaci sto link adesso Mandaci sto link Mandaci Oh fra Disputa vai Disputa e metti che abbiamo vinto Quanto ci godo Eh fai admin Devi fare admin e devi reportarla vinto No no non per forza Quanto ci godo Fai tu che cazzo me ne frega Buffoni di merda oh Fanno i buffoni oh Eh no Mandaci link Where is your Arrivano quelli di da story save L'hai reportata vinta Ce l'ha già data Quando è il prossimo match Quando è il prossimo match Cicci Eh non lo so non lo so Aspetta che Vedi un attimo Fermati Allora Un po' godo La compatta che sono Non mi può vedere Siamo in semifinale giusto Sì C'è gente comunque Pronto Eh lo so Aspetta che Boh vai raga Cazzo mi frega Se moriamo Palle Sono due In finale La macchina è No eh l'ho fatta scoppiare io Con Ce l'ho sul top Sì Senza colpi di assalto Però Io senza viasco Eh c'è il cieco Quello Dubidi Siamo in safe Vieni Ho preso la macchina Comunque Non avevano la spring Quest'hanno chiesto prima la nostra Loro volevano capire Se potevano contestarla Se vincevamo noi Perché non avevamo le spi Sìììi Come no Poco che hanno perso Poco che hanno perso Ampro sul pisello Proprio Ci siamo giocati La vita Ampro c'è anche insieme Merda Merda Io non so quanto ti conviene fightarli dall'ì Tranquillo, sono un ingegnere Ma lo so, sei anche gratinio Apparano ancora? Fuori di me, sono due team Puxa Non scendere tanto No, sei pazzo No, minchia, ma sono tre, io credo fossero due No, 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 no Sei pazzo, ma tutto è pazzo, sì Mi ha filato pancake man, erano tutti girati verso di te Minchia, almeno chiamano che stai salendo con quello Almeno faccio, risalivo A parole tue Risalivo, facevo qualcosa di utile Secondo me devi tirargli la smoke Merda Minchia, così si buttano Tanto si gireranno Eh, vabbè, dai Bu dai, sei morto Buetta Ma sono andati questi Scomparsi Hanno killato me e se ne sono scappati No, ma sono proprio scomparsi Tu li vedi? No Guardi anche a destra A sinistra Eccoli Come hanno fatto il crossaggio a lì? Non lo so, ma Giocare con quest'arma qua È impossibile Minchia 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 Bella sta fumogena Minchia 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 Ma da quante ore stiamo a fare sto torneo? 3 ore e mezza Noi ci siamo connessi alle 16 Noi ci siamo collegati alle 4 però Per me stiamo da un bel po' di ore Comunque non ho capito una roba dei loadout Ho capito una cosa dei loadout Vedi che tutti i loadout sono in safe Bella in safe grazie per il like La safe si dovrebbe chiudere dove c'è la scia dei loadout Già sono morto Koga Aspetta che c'è un altro qua E' quello che mi sta facendo Noi sono due Sono fatto Ti puscia l'altro Maledetta la miseria Oh cazzo Io arrivo Occhio A dove sto più mirando A dentro Ho già le armi Ho le armi Però basta Sta giù andola solo Troppo forte Eh si Restato? Oh zio non killo sto game Ma che è? Troppo in open Vieni 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 c'ho gente qua Visto? Stai 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 Ha chiuso la porta compagno fra sotto Restato Stai 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 Mentre c'è un fight in corso The very game Riesci a buttare un attimino Riesci a trovare i soldi top Questo non ne aveva Questo neanche Questo neanche Questo neanche Va si Va si Va si da mascherola volendo puoi restare anche fuori 6 si ma voglio restare qui se non è più 6 dentro secondo me ti becchi gente armi e mi hanno dato anche un bomba addosso ho fatto le tue stesse kill in 5 minuti ti sei beccato quei coglionazzi lì top coglionazzi no che culo mi sono riuscito a mettere safe il bello è che come sempre non si vede né sente un cazzo dove sto mirando ovest non lo so no è sopra tutto sopra uno knock uno knock oddio sto citando bello io che non ho giocato per tutto il game sto giocando io in endgame tutto alla fine quello che non hai dato prima lo stai dando ora bello eh si un minuto per farmi le stesse kill Alex anzi superarlo oh bombarda vediamoci il corner cos'è il corner a calcio quando dicono corner cosa pensi a un aprioro non guardo il calcio e non ho mai giocato a calcio attacco con mortaio comunque attacco con mortaio comunque vero porco 2 fa tutto morto abbiamo anche i team di erra anche sotto ho uno sopra uno sopra non ho più piatto non ho più piatto non ho più piatto non ho più piatto guarda è arrivato stop uno uh cazzo che sei qua eh mi resto sta arrivando un nemico attenzione in alto uso una carica perforante occhio che c'è quello in volo E' buttato Stavo morendo come un coglione Stavo morendo Perché non lo sei? No Alcuni membri del tuo team non sono nella zona sicura Sara? Fatto? Gli altri? Sto mirando io se crossano Mi stava facendo una sotto Hai piastre? Anche cassa di piastre Vai tira tutto perché non ho nulla Tira tutto perché non ho nulla Sì ma adesso Adesso stiamo cazzeggiando dopo aver vinto i quarti Sì però facciamo meglio cazzeggiando che giocando seri Sta cosa fa riflettere molto Uuuuuh C'è un citano? C'ho due frano ma che hanno? Eh dobbiamo uscire Io ho solo la super maschera che uscire Anche io ce l'ho avvincinamento La zona sicura La zona sicura La zona sicura La zona sicura Let's go Muori E si fa anche la win Merda Mandate sto link adesso Merda Il bello no è che Abbiamo il match mi sa sai Ah si Queste emoji disputavano la partita Dicevano che non ci siamo presentati No mi dice 42 Aspetta La faccio vedere Basta che guardi il tabellone In endgame Ti ho superato ogni kill Veramente Incredibile Avevi 5 kill in più a me 4 kill in più a me Poco è che qui non mi conta la win No non ce l'abbiamo ancora il game Stanno ancora giocando Vedi se sono americani oppure no Aspetta View Se parlo No Bulli Bulli europeo Aspetta fammi vedere Poi tibi E stricchio E sono Sono quelli che abbiamo beccato prima Sono italiani Sì Stricchio Italiani stricchio FL stricchio Di nuovo con No Sì sono gli FL Non sono scarsi quelli Non sono scarsi Ma stricchio però come sta scritto Ma stricchio però l'abbiamo beccato L'abbiamo beccato prima Lo sai l'abbiamo all'occhillato Non è scarso comunque Eh no Non è scarso Lo so Perché noi siamo scarsi No però Dobbiamo fare attenzione Alla stessa Però Sono in torneo Ma non sono contro di noi Non ancora Non ancora Non ancora Lo saranno presto Staffa 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 Noi siamo in semifinale Siamo l'unico team Nulla 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 C'è anche un altro team Un team già in gran finale Come gran finale Aspettate Uno è già in gran finale Un team Livellabilità esperto Eh se vinciamo la semifinale Siamo contro di loro poi Eh sì Bella bella Sì sarebbe la finale Anche se c'è scritto Gran finale No è meglio dire Gran finale Togli la partita porfi Per favore Me la sta cercando Che c'è Se ne salda Arriva Ah sì E tb è stricchio Eh loro giocano Un botto cmg Loro sono italiani Lì E quest'altro qua Sono europei Oh A posti Stiamo giocando solo contro gli europei Mi sta messi bene Io voglio Allora 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 Sto guardando Stricchio che è in live Ok Vediamo A 3 kill Ma è lo start? No Fine seconda 6 Cosa si chiama Stricchio? Stricchio Ok E oggi mi deve laggare tutto Che cazzo Stricchio è morto? Sta laggando anche il cervello in questo momento E' morto E mi sai che ha fatto anche il gulag Si ha fatto anche il gulag E stanno perdendo Si E chi l'hanno? Stricchio ne ha 3 Loro ne hanno 8 Sono up loro di 7 tb Però 7 ne hanno tb Sono up loro di 2 Sono up loro di 2 Tb al re Sono anche in bancho 10 10 a 9 sono Che cazzo dici? 19 sono Stanno vincendo l'oro C'è a Ressino L'ho fatta Ciao a tutti Sto A questa è lahatta Che cazzo di Non ha la Monica Torcam però Morti Vedrà che cosa dice Lo aggiungo subito Allora Spriggio ancora 3 kill Ma guarda che stanno vincendo Prima stavano perdendo però Prima Poi sono morti i mozzi due Abbiamo mandato la richiesta Vediamo se appare in live Già sai che vincono loro L'altro è da solo Noi abbiamo fatto le magie Quando eravamo da soli Minchia Come sono scomparso Con quel full team Lì mi è venuta l'ansietta Sai Infatti Non so che cosa stavi dicendo sotto voce Che ti sentivo Ti volevo dire Stai zitto Stai zitto Stai zitto Poi ho detto No no sto zitto io Mi concentro un attimo Devo scappare E lì Se no avevamo perso Eh sì Avevamo già perso Arrivo io Invece siamo qui A giocarsi la semifinale Insieme contro stricchio Minchia La stanno portando però Eh allora Sto guardando un po' di Jay Jay Non ha detto niente Che gli abbia inviato la richiesta Anche era talmente Immerso Minchia fa bene Jesus Gioca contro Tre terzetti E non quartetti Minchia gioca senza piastre Sta giochendo con tre piastre E non le lutta Ma come gioca? Chi è Jesus? Cioè lui Cioè 19 kill Ha tre piastre Cioè le piastre a terra Non le prende Ma perché? Si prende solo le munizioni Bombardamenti E auto res Ma C'è l'out che ha un auto res E due cose di muni Le piastre le poteva prendere Non le ha prese Ma Oh non le ha viste Però No dubito Ci è andato sopra Uè Bottazzo di Babywerdingo Merdina Stavo aspettando di giocarci la semifinale adesso Dai ecoga Dai ecoga Vamonos Vamonos Diciamo in ritardo sulla tabella Da Matteo HS C'ho 24.000 punti Canale Dai ma vuole morire questo Porca trolla E' ancora vivo Eh si Eh io non me li sto guardando più Fammelo mettere di nuovo Stricchio Stricchio Non vuole morire Boro giovano splittati Stricchio è il suo amico No è un mio amico Stricchio è il suo amico Ah Uh Come cazzo ha preso sto knock? Non lo so Ha citato Ma hai visto che stavo laggando come la merda Secondo me ha citato Eh anche perchè non c'ha la webcam cam Webcam cam Cam Eh Streaming di tipi Di tipi Di tipi Ah Chi è che mi ha inviato Ah Non gli ho inviato Però Che a me l'avessi inviato qualcuno Ha richiesto La mia Ma fra ma anche tu Ogni volta che entri su cmg Devi mettere il tuo account No L'ultima volta Non me l'ha fatto mettere Fortunatamente Che avrei potuto bestemare fortissimo Ma fra ma Eh fra devo staccare Devo andarcene Vai veloce Vabbè Torno subito Bello 20-30 minuti e ci sono No 20-30 no dai Fai un'oretta No Un'oretta e mezza va bene Sì sì Fai un'oretta No comunque sto scherziamo Stavo scherziamo Non ti preoccupiamo So che mangia le nove Coglionazzo Minchia come se non lo conoscessi Ah TB ce l'ha la stream Ah no Ah sì Ah sì Ah no Ah sì TB eccolo qua TB c'ha 10 kg C'ha 10 kg 3 kg 3 kg ne ha 4 Adesso lo shop Quell'altro Loressa Che è 14 Quanto ne ha Ne hanno gli avversari Allora Mo ti dico Chi è vivo I Eh sì I Ah Non è in live Vale Non è in live Non c'ho la live accesa Sai Vale E' un po' un coglione Che l'hanno fatto avanzare Per tutto il torneo Così gratis Neanche su lì Alla live Che coglione Non hanno la live Hanno avversa a prescindere Quindi Ciao baby Bella baby Bella baby Bella 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 Di video Sono da play o sono da pc Eh siamo in semifinale Adesso dobbiamo aspettare la live Siamo in semifinale E 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 Sì Le grandi finali È morto il tipo Sì zio Mi hanno perso a prescindere Non hanno la stream Ha vinto Hanno vinto TBI E Spicchio 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 Ha arrestato Ha arrestato Comunque ci stava un momento chill Senza giocare Sì No no Anche perché non esaurisco Matti Esaurisco E Dimmi baby Una clip Abbastanza di merda No Non insultare Non è vero baby Sto scherzando Ho guardato il primo minuto e basta Bravo Solo che le devi fare sempre se giocate L'ho guardata tutta io Te l'ho anche detto Per me è stata una bella giocata Bravo Ti muovevi Ti muovevi bene Ti sei gestito bene il team Bravo Esatto È fenomenale È fenomenale Hai trovato dei polletti africani Eccolo qua Già detto sono fenomenale Coga vedi Bisogna insultarlo Eh sì sì Bisogna sempre insultarlo Dirgli sei un coglione Hai fatto schifo la clip Grazie grazie Sempre È un complimento per me Hai fatto schifo Hai fatto schifo È sempre un complimento Non esattamente Non è un complimento Mi sa Vedi no eh Una ragazza ti dice Fai schifo Grazie per il complimento Non l'ha visto questo Hai visto che L'ha passato sotto No Sto guardando Un è morto E l'altro sta morendo Hanno vinto Come sta Martino Tbehaved Forti Kill Hanno vinto Eh però se non Quittano Sulli Vuol dire che sono sopra di kill No Sì E che fanno Si aspettano il game The game Spacted the game Voglio strimperare qualcuno Vi posso strimperare? Non dire cazzate Vi caccio il team contro Non dire cazzate Ci regali le kill sì Se ci regali la kill sì No comunque hanno perso Vi caccio il team contro E poi voi ve la gioca Salli No fra stanno perdendo Stricchio Sì 8 e 6 Contro 4 e 11 No hanno vinto Ma basta Hanno vinto allora Hanno vinto Vedi che segretino Ma vedi Allora Cogra impara a giocare Erano sotto di kill Se le sono fatte Hanno abbandonato Mate in one Mate in one Eh Avete un altro torneo Ma Hai invitato Mate in one Mate in one Bella raga Ciao ciao Bella raga Bella beverdo Vi Seguo in live Osta è nostro Controlla Adesso guardo Bella per stricchio Oh bella stricchio Ma fa sicuro che stricchio Quello che conosciamo noi Secondo me sì Secondo me no Perché stricchio Era scritto in un altro modo Ah è vero Ed era EFL stricchio C'è ragione C'è ragione C'è ragione Quindi secondo me Non solo Ma tanto poco cambia Poco cambia Forza maids Forza maids Stasera Gull fa lo switchero Fra Quello Bello Bello Forte Dove partecipano quasi tutti i pro player Lo so Con chi partecipa lui Partecipa anche FIFA Guild Mi sa Ma con chi partecipa lui Che cazzo ne so Ho visto il post di me Dice solo Zeta Gullu qua Ah gioca pure in LAN Gioca Gioca in LAN Dalla lobby a game Quindi c'ho A pure un bel pc Ma pure un bel pc Ora partecipa Lupo Bianco Insieme a Blu E beh Ah lupo E' per quello Che sono andato insieme Boh Probabile O Savi Magari Perché io ho visto Le persone che c'erano lì E A parte Gull Di pro player Non c'era nessuno Oltre Savi e Lupo Non l'ho visto Boh Perché sa Un lupo E non è Lupo è un pro player E quella Ha la domanda Da farsi Mi so Ovviamente Lupo ti vogliamo bene Ma siamo sicuri Sai che è probabile Che potrebbe partecipa Pure con Lupo E' intorno Bello E' importante Però Ah si Secondo me Guarda Cosa che non ho ascoltato Con chi Savi Savi Niente Niente Savi l'ho visto Su sto code Bello cattivo Savi l'ho visto Su sto code Bello cattivo Però ha perso Un sacco di follower Hai notato Di spectre Si Ma non lo so Perché ma tutti Hanno perso un po' di spectre Un bel po' E' il periodo Il periodo è un po' di merda Per gli streamer Periodo natalizio Savi sta andando a Madeira A fare cosa a Madeira Allora non parteci Ma neanche Savi Ma l'ha fatto qualche post A riguardo Ma allora mi sa che è in solo In solo Lo switchero in solo No non è impossibile Se no non si chiama switchero Fra lo switchero Si fa con i player casuali Vedi che ci sono delle cretine Ah è vero Switch Switchero Ah ok è vero Switch è cambiare Si Si sta Si sta Quindi puoi giocare anche con FIFA Kill Magari cool Bello Come i phoenix si sono sciolti Eh si Me l'aveva detto Babywarding Come Me l'ha detto Babywarding Me l'aveva detto Eh adesso me l'ha scritto per a me Boh me l'ha detto Freddy Comunque siamo focus Non me ne frega più un cazzo Vai 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 Solito eh Non lo dico neanche Si Sai perché Loro scendono splittati No no Sì Al pallone non vedo fra che è sceso qualcuno No sono tutti main Sono tutti main Eh tip Ti ho visto visto Ti ho visto Ti ho visto Ti ho già morto Ti ho morto Ti ho dato nemico in arrivo Oh Guarda Ho preso Musito schede Prendi la sacca Prendi la sacca Vieni la sacca Vieni la sacca Vieni la sacca Vieni la sacca Lavoro no Fra Veni tra nel schindle mi sa Eh ma è pieno di gente lì eh Eh lo so Si rompi le palle un po' qualcuno Bravo Tra il team della corona sta fightando Con un altro team L'hai visto Vai con calma Vai con calma Sto a terra sono Uno me l'ha dato Andando dietro La gioco con calma Ti ha dato una kill No È un gioco Triggio è già morto Non è morto Non è morto pure io Ma ho sceso l'altro La bella merdina qua Ah si Quanto siamo? Uno a uno 2 a uno 2 a uno per loro 2 a uno per loro 2 a uno per loro Ok, c'è la taglia sopra lui. Oh, c'è sempre una cassa, almeno qua. Questo giro no. Ah, sta facendo la roccaforte, lui. Quanto i soldi, infatti. Lei è vicino a Cushion. Lo devo andare a idroelettrica, non si trova più un cazzo. Non devo affrettare, mi piace, la taglia addosso, lui. Cioè, è a morire questo. Troppi soldi che potrebbe restare. Leonardo, grazie per il like. Eh, ma guarda, il Sara ce la fa restare. Ah, non sa che è sopra la shop. NANI! Ce la faccio, ce la faccio. Eh, io non mi trovo un cazzo, come sempre. Guarda, è stato. Occhio che stanno facendo la rocca. La porta. Passa largo che poi devi andare a stop dall'altra parte. Ma frecca, non trovo soldi. È tutto lui. La partita, due non due nori, sei morto. Ah ah. Cos'era quello per terra? Ci botta, già l'ho preso per te. No, non sarei di uccisione, mi sembrava. Ma c'è di Falco, ti devo chiamare. Minchia, se muore di nuovo uno dei due, si restano lo stesso. È tipico ancora il Gulag. Giocano splittati. Forse... Non sai cosa sono. Devi essere bello bravo per giocare splittato, quindi possiamo approfittarne noi di sta cosa. Vai, adesso. Ritorno, vieni. Vengo lì, eh, per prendere le armi. Vai. Nulla è stato già scritto, eh. Adesso... Eh? Non ci pensavo. Non ci pensavo. Sono... Ok. Carmine, buonine ce l'ho. Occhia la macchina. Stanno pushando lo shop. Sì. Tiro un grappolo in testa. Richiedo attacco, bersaglio marcato. Attacco col mortaio in arrivo. Sì, vabbè, ma il grappolo fra è sceso da me. L'ho tirato da te, è sceso da me. Tra, guarda qua, è sceso da me. Ma l'è stupido cosa. Ma l'è stupido cosa. Occhio che c'era un altro team. Gassi in arrivo, c'è una nuova zona sicura. Io c'ho ancora l'uad. Eh, però ci abbiamo stricchio vicino, eh. Mi... Mi lutto... Mi shoppano un'arma. Anch'io. Mi lo shoppa l'assalto. Abba, sono gli udili. Uh. Sto a mitraglietta, mi va bene, questo. Sto a mitraglietta, mi va bene, questo. L'equip ci scende in testa. Ah, c'è una mina qua. Ce l'hai top da te? Sì. Sul top top? Sì. Non proprio sul tetto. Sul secondo piano. Alla mia destra. Questa prova, avevo il tuo nome dietro. Non gli stavo per sparare. Prenditi st'autoressa che c'è qua dentro. Prendiamo sto loadout che era sceso qui. C'è ancora la... La luce. Gente. Ho capito. Morto stricchio qua. Il palazzo qua è morto. Adesso ho già le armi. Ando anch'io. Apri. Cosa è? La morte di sto palazzo qua, eh? Eh, infatti c'è una mina. C'è una mina. Non è sul top, ho appena visto. È il secondo piano, il secondo piano. Non sto. Ciao. Mi sono uscito pre-fire. Non mi vuole mai. Un altro autoress. Eh, lo inculo. Sì, sì, vai, prendilo. Io ne ho già uno. Sì, vai, prendilo. Uh, c'è gente qua. Sotto. Ho preso. Scusate. Farono. Sabbia. Dove sabbia? Tutto sabbia. Eh, lo so, da quella parte. Perdona. Te l'ho visto. Stai lì. Eh no, in realtà è più dietro. Ah, no, più dietro. Allora, quant'è chi lo abbiamo? Noi 5 kg lo ero 3. Ho tirato il disturbatore. Chi è? Io. Hanno tirato l'Uavv e me l'ha chiamato. Eh, si è fatto una doppia. No, 5 a 5, 5 a 5. Hanno restato? No, ha restato lui. Ah, ha restato lui. Oh, banano di nuovo. E non riesce a scendere qua. Nessuno di noi due deve morire, eh? Ah, ah. Io ho fatto il culo, che stai pure? Uh-huh. No, io no. Ah, tu no. Oh, aspetta. Mi batto di vetro. Ah, no. Io li sento sparare, però. Sì, anch'io adesso. Chi ce l'ho front? Arrivo. Due no pen. Uno nocce. Uno nocce. Uh, sinistra. Qua. Close. C'è uno close da me? Dai, so. Uno close da me? Arrivo. Oh, zio, mi sono bloccato nel bagno. C'è il gulag. Sara. Stanza di merda, oh. Che palle. Vai, vai. L'importante è che non mori tu. L'importante è che non mori tu. No, è un uomo. No, è un uomo morto. Qualcuno deve morire subito. Morti. Capri il lutto. No, è un uomo morto. Un uomo morto. Ok, c'è gente lì? Eh, io sono morto qui a sinistra. Sì, sì, vai. Ok, buono. Dove sta il bagno? Cazzo, ma che è? Sono scomparci le armi. Ah, non c'è più nulla del mio loot. Era uno fuori, eh. Un'altra. No, non c'è più nulla del mio loot. Questa casa rossa. Ho visto. Ho giocato le armi di un'altra. Sto giocando con delle armi, a meno. Viene, vieni. Ah, lo dò o te lo fa riprendere? No. Ah boh, c'ho delle armi decenti, dai. C'ho con le RFKG con uno. Un qua, qua. Mi servono solo un ciubattino. Eh, sì. Ce l'hai? No, però ne ho ammattato uno qua. Da sopra. Provo a vedere. No, era blu, era blu. No, no, era blu. No, no, poi è stata, era blu. Ce l'ha. Gatti in movimento. C'ho gente. Dov'è? Da me. Arrivo? Da me un ping. Da me, in casa. Preciso. La zona sicura è piuttosto lontana. Lo senti? Sopra. No, è stato. No, è stato. Va tutto. Non ce l'aveva giù qua. Ho preso. Ho una tannica di benzina. Chi sta vincendo? Noi siamo... Più... Nessuno sta vincendo, beh, l'ora. Due. Sto proprio più due. C'era anche qualcun'altro. Eh. Pinghava un po'. Mi sto già crossando. Arrivo. La spiglia, mi sa che c'è gente. Sì. Fuori. Eh, non ho messo una a terra. Attacco aereo alleato. La roccaforte pura. Il team sta alla roccaforte, mi sa. Eh no, sono solo. Sì, stanno alla roccaforte, qui. Sono io. Ci sento parlare. Eh sì. Sento anch'io. Sento ancora parlare, sono due. Non capisco però dove stanno. Sì. Sto tb. Sta, stanno sotto. Ah, va qua, morite. Ah, non batto. Ma c'è gente vera, c'è gente vera. Vulta stanno qui dentro, qui dentro me. Arrivo. Più da la sala. Mi ho messo tutte le mine a grappolo. Crackato, terra, terra qua. La terra fuori, sono due. Sono altri due. Via, 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 via. Chi si è, ma... Ah, qua c'è panina e platte. Oh, mi sono due. Dam, 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 portammi... Guardiamo. Che addio. E' fanno il resto. Ah, io eri, la bomba. Non rubarti la kill. Prendo la macchina, quanto stanno? Pari. No, zia. C'è l'altra gente. Non devo parlare. Fingami lo shop più vicino. Eh, non è sicuro, è molto distante. Non è ancora te. Eh, c'è? Eh, questo, ce lo togli io per forza. Che merda, no? Le prime sono 8 dollari. Che merda di shop. È abbastanza. Ma è quello più vicino. È l'unico. Sì, guarda poi la macchina di merda che si blocca in mezzo alle rocce. L'ho visto, l'ho visto. Il fotografo, il figlio. Sì, guarda. Mi mando un attimo in aria. Prova a pingarteli. Eh, torre, 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 torre. Torre. Prova a prendere loadout. Che è qua, sopra di me. No, ma non lo so. Eh, c'è gente. Stanno ammazzando qualcuno, loro. Provo. Bombardamento alleato. Oh. Ma su cosa mi dice? Uno mi cura. Che senso non ti cura? Eh, non mi mette le piastre. Come non ti mette le piastre, fra? Non te le fa proromettere. No. Per un bug di merda. Mi sta sparando gente qui sotto. Mi hanno visto rassare. Mi sa che sono morto. Prova a morire, che c'ho i soldi. No, aspetta, non sono ancora morto al 100%. Dimmi. Sono ancora vivo, però. Mi sa che sono vivo. Si, sono vivo. Per culo. Ma non mi mette le piastre. Quanto stiamo? Noi... 18, loro... 19. Di uno loro, minchia. Bella, bella combattuta, mi piace. Eh, cazzo che non mi fa curare. Non è che vedi magari tu le piastre bugate? No, no, no. Eh ma zio, ma come cazzo giochi così, scusa? Eh. Può che dirti. Bug è in torneo, gg. No, 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 no. Un bel po' di loro, eh. Stai... Sopra? Sopra tutto, sopra? Siamo qui. Stai... Bombarda, bombarda, occhio. Vado via? Vai, fammi. Porto le piastre io. Buono. Non l'ho fatto io. Eh, mai mettesse. No, 20. Sto facendo di tutto, fra, per farle kill. Sto buscando i peggio team di merda. Ora sono a 23. Ho più due. Arrivo. Non è stata sotto a 2. Non è stata. Ho fatto un cecchino, forse da sopra. Sì, da sopra. Sì, da sopra. Sto mirando e timi dietro. Eh, mi fanno... Eh, non mi fa curare. Sì, ma zio, ma... Non ti fa curare. Va dentro, va dentro. Non ti fanno push senza curarti. Che pizzo. Continua a combattere. Ok, boh. Compaiono pure nel nulla quando le lascio per terra. Tu non hai giocato, praticamente. Eh no, non posso giocare. Ovviamente hai bug in una semifinale di un torneo, capito? Dobbiamo prenderci tutte le kill adesso. Ce l'ho tutti front. Front al benzinaio. Ok. Non c'è nessuno qua. Sì, è colpito. Sì, è colpito. Ah, è traccato. Uno knock, uno knock, uno knock. Eh, lo so. Mi hanno confermati loro. Manca l'ultimo. Questa, questa, questa. Qui dietro, dietro, dietro. No, non è vero. Non è vero mai. Non è vero mai. Eh, hanno vinto loro. Eh, è stata combattuta, però. Mi ha fatto giocare sto gioco di merda. Vaffanculo. GG, GG. Dai. Io bastardo. Porco Dio. Eh, GG a loro. Però, boh. Ho giocato senza di te. Ho giocato da solo. Io non potevo mettermi una cazzo di piastra che fosse una, incredibile. Fra, digli che boh ti è successo il bug su Twitch. Ma no, non importa. Va bene così. Va bene così. Vedi l'admin, Fra. Eh? Chiedi all'admin se c'è qualche regola. No, eh. Probabile proprio che c'è. Raga, ma c'è qualche... Admin, ho riscontrato un bug in game dove non mi faceva piastrare. Eh, vedi che ti dice. Eh, leggo le regole. Aspetta un attimo. No, no, no. Chiedi l'admin. Se prima. Chiedi all'admin, è diretto. Senza che ti guardi le regole. Ma basta che scrivo admin? Sa. Basta che c'è il comando admin. Insieme a disputa e gli altri. Nella chat. Ah. Bug in corne, oddio, cristo, come è sempre. Stessa cosa di Dani. Io non capisco perché. Non capisco veramente il perché. Disputa, sì. Fai il nostro team ha vinto. L'admin deve venire per forza poi. Sì? Sì. Credo di sì perché non me lo faccio amare. Non lo contatto a questo... Se non mi facessi vedere il suo cazzo di Twitch, però... Aspetta, lo invito un attimo. Vediamo se la vogliono rigiocare o... No, loro non la rigiocheranno mai. Regà? Eh, lo so. Riverdigo entra, regà. Allora. Si è riportato la win per noi? No, non è ancora. Eh, allora, allora, sono andati avanti. Almeno che non la contestimo, loro vanno avanti. Cazzo, faccio... Tibi. Ah, yes. Vediamo. Scusate. 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 Chiedi all'admin, prima. Ma c'è... Admin... Alla... Scrivielo tu, a me non mi faceva piastrare. O c'è... Ho riscontrato un bug che non mi faceva piastrare. Scrivielo un attimo. Sì. Ne è scritto? C'è. Spero, guarda, che ci sia qualche regola sui bug. Eh, non lo so... Non lo so neanche. Non lo so neanche. Ah, boh, mal che vada, si prenda l'or la win, cioè. Ok, mandai la clip. Questo clip? Sì, ha detto. Si prega di collegare una clip di questo e daremo un'occhiata per la revisione. Eh, ma mica... Merda. Eh. Quanto ci vuole per fare una clip? Eh, un pochettino perché è una rottura di coglioni. Eh, lo so. E sta raggando. Dico, wait. Aspetta. But they're finished the game. Wait. Aspettare. Scusa, dovevamo uscire a sto punto? Non lo so. Uscire o non uscire, noi comunque abbiamo provato a vincere il game. Strighi, ha morto tutto il game. Ha morto due. Scusa, dovevamo uscire? Scusa, uno, e venti. Bello è che a me non lo fa chiamare l'admin, non lo so il perché. Poco. Molto poco. Quindi l'hai fatto? 200. Io posso scrivere in privato, in chat, a sto striglia. Ah sì, se sto vogliono riempiare. Stanno parlando. Che è successo? Che state a fare? Stiamo aspettando la risposta dell'admin. Eh, scrivichi. Reacts, mi sbaglio, hanno 30 secondi per riavviare il gioco. Sì, ha 30 secondi per riavviare il gioco dallo start. Ma no, da mid-game. Dall'inizio, gliel'hai scritto tu dall'inizio. Sei rincoglionito, Koga. Devi scrivergli da mid-game. No, dall'inizio ha quello che dice lui. Sì, è un torneo, Alio. Comunque l'admin, in teoria, non gliela può riportare, vinta per ora, finché non gliela è la clip. Quindi fai la clip. Che punto sei? Ok, l'hai già fatto. Scrivi, this is the clip admin. Minchia, 11 minuti di clip. Da quando c'erano 36 persone l'hai fatto. Eh sì, minchia. Da 36 persone tu me l'hai detto quasi in endgame. Non ti faceva piacere. Io te l'ho detto così subito. Te l'ho detto subito. Gli ultimi 10 minuti di partita sono giocato senza piazza. Hai 30 secondi da quando hai un bug per uscire e non puoi continuarlo e dirlo quando finisci. Va meno. Non ne rispondo neanche. Un buon attimo che... Finisci the game, ancora. Arriva. E mo' bisogna di che hai rispostati dall'admin. Eh amore sto facendo un torneo, scusami non sto calcolando neanche la chat in questo momento. Aspetta un attimo. Sono comunque morto. Perché se vincevate voi sicuro non riportavate il bug. Per quello. Ma perché piangono sempre? Non scrive niente. Qua giocato una metà game così. Come posso vedere il gioco non è terminato. Entra 30 secondi di scelta. L'abbiamo perso. Capito Koga. Niente abbiamo preso la sconfitta. Lo so. Mi ho visto. Ne dovevi quitare il game. Praticamente. E' stato bello avanculo. Niente. Terzo posto. Avanculo va? Basta. No. No. Ma per il tuo, vai. Cittata. Provo Ah ma tanto te l'avevo detto che Non è una storia Noi potevamo vincere I bug in torneo come sempre Anche quello che ho fatto con Dani Perso perché? Perché a Dani gli fa il bug Il bug che c'era Bug, lag Tutto c'era Tutto Eh grazie a cazzo che se non vincevamo non riportavo il bug Eh porco dio Cioè Mister ovvio è arrivato Mister ovvio è arrivato Grazie a cazzo Grazie al cazzo Oh non mi cura Vabbè vado a fumare un attimo Bello è che Koga Koga Anche se tu avessi voluto contestare il game Tu me l'hai detto dopo 40 secondi Perché ancora dovevi perdere le piastre Tu da quando ci sono 30 persone non hai fatto più una kill poi Non mi cura Eh non mi mette le piastre Che peccato Che peccato Quando la fortuna fosse una volta dal mio cazzo di parte S'ho sfigato in tutta la mia vita S'ho sfigato da tutta la mia vita Secondo torneo che Dio Cristo Uno fa il bug L'altra volta era il bug di Dani Che non vedeva più un cazzo Ma è Koga Con le piastre Non ho un poco di culo nella vita Non ho un poco di culo nella vita Non arriva poco Stiamo un terziato No io stacco Lo ricordo Ma stacchi? Sto giocando da Sei No Cinque ore Sì Quasi sei ore Mi sono connesso alle sedi Alle quattro Oh sì 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 Hai rosso Hai rosso Pazienze Ci riproviamo domani Domani Perché c'è un altro domani Sì domani Dopodomani Un'altra ora il 12 Un'altra ora il 14 Ci riproviamo domani Un baraduro Mi saluta un attimo la chat Che bello Bella Bella Non è Bella Neanche sto rimasto in merda Che alla fine Sto facendo bene Mi ammento pure il game Che cazzo Chat Mi saluto Stacco Non lo so se mi ricollego più tardi Oppure ci perchiamo direttamente domani Bel torneo Siamo arrivati in semifinale Abbiamo perso l'opervia di un bug E domani di nuovo torneo su CMG Bella ragazzi Forse mi riconnetto dopo Bella boys Ciao a tutti